Bentornati sul canale. Inseriamo questo testo che nasce da una richiesta nei commenti di uno di voi. L'abbiamo trovato e lo inseriamo in questa forma. Un abbraccio, buon ascolto. Le immagini seguenti sono estratte dal libro dei precetti d'oro, una delle opere che in Oriente si pongono in mano agli studiosi di misticismo. La loro conoscenza obbligatoria in quella scuola i cui insegnamenti sono accettati da molti teosofi. Perciò, sapendo a memoria molti di questi precetti, fu per me cosa relativamente facile il tradurli. È noto che in India i metodi di sviluppo psichico variano secondo i guru, insegnanti o maestri, non solo perché questi appartengono a scuole filosofiche differenti, delle quali se ne contano sei, ma anche perché ogni guru ha il suo sistema particolare, che generalmente tiene segretissimo. Ma al di là dell'Himalaya il metodo delle scuole esoteriche non varia, a meno che il guru non sia un semplice lama, di poco più, dotto dei suoi stessi allievi. L'opera, dalla quale, dalla quale io traduco, forma parte della serie medesima, dalla quale furono tolte le stanze del libro di Dzihan, sulle quali si basa la dottrina segreta. Il libro dei precetti d'oro ha la stessa origine della grande opera mistica intitolata Parama con accento circonflesso Orta, la quale, come narra la leggenda di N.A. con accento circonflesso G.A. con accento circonflesso Riuna, fu data al grande Arat dai Naga o Serpenti nome dato agli antichi iniziati. Tuttavia le sue massime e le sue idee, per quanto nobili ed originali, si ritrovano spesso sotto diverse forme in opere sanscrite, per esempio nelle lunga N.A. con accento circonflesso Neshwari, il superbo trattato mistico nel quale Krishna descrive ad Ariuna in smaglianti colori lo stato di uno i oggi pienamente illuminato, come pure in certe Upanishad. Tutto ciò è naturalissimo poiché la maggior parte, se non la tonalità degli Arat più elevati, i primi seguaci di Gotama Buddha, erano Hindu, e Dari, non Mongoli, e specialmente quelli che emigrarono nel Tibet. Le opere lasciate dal solo a con accento circonflesso Riuna con accento circonflesso Nga sono numerosissime. I precetti originali sono incisi su sottili lamine o blunghe e le loro copie molto spesso su dischi. Questi dischi o lastre, sono generalmente conservati sugli altari dei templi annessi ai centri in cui sono stabilite le scuole cosiddette contemplative Omaa con accento circonflesso Yana, Yoga con accento circonflesso Ch con accento circonflesso Rya. Essi sono scritti in vari modi, talvolta in tibetano, ma più spesso in caratteri ideografici. La lingua quattro sacerdotale, Senzar, oltre che in un alfabeto suo proprio, si può trascrivere in diversi caratteri crittografici, i quali anziché sillabici hanno piuttosto la natura di ideogrammi. Un altro metodo di scrittura, Lugin tibetano, consiste nell'uso di numeri e colori, ciascuno dei quali corrisponde a una lettera dell'alfabeto tibetano, 30 lettere semplici e 74 composte, formando così tutto un alfabeto crittografico. Quando sono usati gli ideogrammi, si ha un modo definito di leggere il testo, come in questo caso, i simboli e disegni usati in astrologia, i dodici animali dello zodiaco e i sette colori primitivi, ciascuna dei quali da una triade di tinte, chiara, normale e oscura, si adoperano per 33 lettere dell'alfabeto semplice, per le parole e le frasi. Infatti, in questo metodo i dodici animali, cinque volte ripetuti ed accoppiati con i cinque elementi e di sette colori, formano un intero alfabeto composto di 60 lettere sacre e dodici segni. Un segno collocato al principio del testo determina se il lettore deve seguire il modo indiano in cui ogni parola è semplicemente un adattamento del sanscrito, o il principio cinese di lettura ideografica. La maniera più facile è tuttavia quella che permette al lettore di servirsi, non di una lingua speciale, ma di quella che gli torna più comoda, poiché i segni ed i simboli erano, come le cifre arabiche, proprietà comune ed internazionale dei mistici iniziati e dei loro seguaci. La stessa particolarità distingue uno dei modi cinesi di scrittura, la quale può essere letta con ugual facilità da chiunque ne conosca i caratteri. Un giapponese, ad esempio, può leggerla nella propria lingua così facilmente quanto un cinese nella sua. Il libro dei precetti d'oro, alcuni dei quali sono pre-buddisti, mentre altri appartengono a date posteriori, contiene circa 90 piccoli trattati distinti. Io ne imparai, anni or sono 39 a memoria. Per tradurre il resto dovrei ricorrere a note sparse in un numero troppo grande di carte e di memorie, raccolte negli ultimi venti anni, né mai riordinati per facilitare il compito. Nessi potrebbero tutti tradurre e dare a un mondo che, troppo egoista e troppo attaccato agli oggetti dei sensi, non sarebbe in nessun modo preparato a ricevere rettamente un'etica tanto elevata. Poiché, a meno che non si perseveri seriamente nella ricerca della conoscenza di sé, non si darà mai volentieri ascolto a consigli si fatti. Tuttavia questa etica riempe volumi e volumi nella letteratura orientale, specialmente nell'Eupanishad. Uccidi ogni desiderio di vita, dice Krishna 5 ad Ariuna. Questo desiderio risiede soltanto nel corpo, veicolo del sé incarnato, non nel sé, che è eterno, indistruttibile, che non uccide, né è ucciso, kato panisciad. Uccidi la sensazione, insegna il sutta neppa con accento circonflessuta, considera ugualmente il piacere ed il dolore, il guadagno e la perdita, la vittoria e la disfatta. Ancora, cerca ricovero soltanto nell'Eterno, Ibid. Distruggi il senso della separazione e ripete Krishna in tutte le forme. La mente, Manas, che obbedisce agli irrequieti sensi, travolge la sua ragione, Buddhi, come il vento, travolge, una nave sulle acque, Bhagavad Gita, 2, 67. Perciò si è pensato meglio di fare una scelta giudiziosa solamente fra i trattati che converranno meglio ai pochi veri mistici della società teosofica, e che risponderanno certamente alle loro necessità. Questi soli apprezzeranno le parole di Krishna Shristos, il sé superiore, né per i vivi, né per i morti saggi menano cordoglio. Né vi fu tempo mai in cui io non fossi, né tu, né questi dominatori d'uomini, né quindi innanzi cesseremo di esistere mai più, Bhagavad Gita, 2, 11-12. In questa traduzione ho fatto del mio meglio per conservare la poetica bellezza di lingua e di immagini, che distingue l'originale. Giudichi il lettore fino a qual punto è il tentativo riuscito. 1889. H.P. Blavatsky. Frammento 1. La voce del silenzio. Queste istruzioni sono per coloro che ignorano i pericoli degli id inferiori.1 Chi vuole udire e comprendere la voce DNA con accento circonflesso da virgola 2 e il tacito suono, deve prima conoscere la natura di D.H.A. con accento circonflesso R.A. con accento circonflesso. 3. Deve il discepolo, divenuto indifferente agli oggetti della percezione, cercare il R.A. con accento circonflesso I.A. dei sensi, il produttore del pensiero, quello che sveglia l'illusione. La mente è la grande distruttrice del reale. Distrugga il discepolo la distruttrice. Poiché, quando la sua propria forma gli apparirà irreale, come nella veglia tutte le forme vedute nel sogno, quando avrà cessato di udire i molti, egli potrà discernere l'uno, il suono interno che uccide l'esterno. Allora soltanto, non prima, abbandonerà egli la regione di Asat, il falso, per entrare nel reame di Sat, il vero. Prima che l'anima possa vedere, deve raggiungere l'armonia interna, e gli occhi della carne devono essere resi ciechi ad ogni illusione. Prima che l'anima possa udire, l'immagine, l'uomo, deve diventare sorda e rumori come ai mormorii, al selvaggio barrito degli elefanti come all'argentino ronzare della luccia d'oro. Prima che l'anima possa comprendere e ricordare, deve essere unita a colui che parla nel silenzio, così, come alla mente del vasaio è unita la forma secondo la quale sarà poi modellata l'argilla. 1. La voce paliddi equivale alla sanscrita siddhi, ossia facoltà psichiche, poteri anormali dell'uomo. Vi sono due generi di siddhi, un gruppo che contiene le energie psichiche e mentali inferiori e grossolane, ed un altro che esige il più alto sviluppo dei poteri spirituali. Dice Krishna nello Sharmad Bhagavad, chi è occupato nel compimento dello yoga, chi ha sottomesso i suoi sensi e concentrato la sua mente in me, Krishna, tagli oggi tutti i siddhi sono pronti a servire. 2. La voce senza suono, ossia la voce del silenzio. Forse letteralmente questa espressione potrebbe leggersi, voce nel suono spirituale, poiché n ha con accento circonflesso da è l'equivalente sanscrito del termine senzar. 3. DHA con accento circonflesso Rana con accento circonflesso è la concentrazione intensa e perfetta della mente sopra qualche oggetto interiore, accompagnata dall'assoluta astrazione da tutto ciò che appartiene all'universo esterno, al mondo dei sensi. 8. Poiché allora l'anima udrà e ricorderà. E allora all'interno orecchio parlerà, la voce del silenzio, e dirà, se la tua anima sorride immersa nella luce solare della tua vita, se la tua anima canta entro la sua crisalide di carne e di materia, se la tua anima piange entro il suo castello d'illusioni, se la tua anima lotta per spezzare l'argento o filo che la unisce al maestro, virgola quattro sappi, o discepolo, la tua anima è di questa terra. Quando la tua anima che si dischiude cinque d'ascolto al tumulto del mondo, quando la tua anima risponda la voce ruggente della grande illusione.6 Quando sbigottita nel vedere le cocenti lacrime di dolore, assordata dalle grida d'angoscia, la tua anima si ritrae come la pavida tartaruga nel guscio dell'egoismo, sappilo, o discepolo, tempio indegno è la tua anima del suo Dio silente. Quando, cresciute le sue forze, la tua anima si arrischia fuori del suo sicuro asilo, e, staccatasi dall'involucro protettore, tende l'argento o suo filo e si spinge in alto, quando, scorgendo la sua immagine sulle onde dello spazio, essa mormora, questa sono io, confessa, o discepolo, che la tua anima è presa nelle reti dell'illusione.7 Questa terra, o discepolo, è la stanza del dolore, dove lungo il sentiero delle dure prove sono sparse insidie per avvolgere il tuo ego nell'illusione detta la grande eresia. 8, 4 Grande Maestro è l'espressione usata da Ikela per indicare il Sé superiore, ed equivale ad Avalokiteshvara, e Ada con accento circonflesso di Buddha degli occultisti buddhisti, La con accento circonflesso Tm A con accento circonflesso dei Bramani, e il Shristos degli antichi gnostici. 5 Anima qui è usato per indicare l'ego umano o manas, quello che nella nostra divisione settenare occulta è chiamato anima umana per distinguerlo dall'anima spirituale e dall'anima animale. 6 Ma con accento circonflesso M A con accento circonflesso Y A con accento circonflesso, la grande illusione, l'universo oggettivo. 7 Sacca con accento circonflesso Y A con accento circonflesso D A, l'eresia della credenza nell'anima, o piuttosto nella separazione dell'anima o se dall'universale ed infinito se uno. 9 Questa terra, o discepolo ignaro, è soltanto il vestibolo tenebroso che conduce a quel crepuscolo che precede la valle di vera luce, quella luce che vento non può estinguere, che arde senza lucignolo e senza alimento. Dice la grande legge, per diventare il conoscitore del sé universale.9 Devi prima essere il conoscitore del sé. Per giungere alla conoscenza di questo sé, devi abbandonare il sé al non sé, l'essere al non essere, e allora potrai riposare fra le ali del grande uccello. Dolce in vero è riposare tra le ali di quello che non è nato, né muore, ma è l'aum 10 attraverso eterna età.11 Cavalca l'uccello di vita, se vuoi sapere.12 Rinunzia alla tua vita, se vuoi vivere.13 Tre aule, o stanco pellegrino, conducono al termine delle prove. Tre aule, o conquistatore di emmea con accento circonflesso ra, ti condurranno per tre stati 14 al quarto virgola 15 e da questo ai sette mondi virgola 16 ai mondi dell'eterno riposo. Se vuoi conoscerne i nomi, ascolta e rammenta. Il nome della prima aula è ignoranza, avidia con accento circonflesso. E questa l'aula in cui hai visto la luce, in cui vivi e morrai.17 Il nome della seconda è aula della conoscenza. 9 Il tia con accento circonflesso tvaia con accento circonflesso ni è colui che conosce e distingue i principi nella natura e nell'uomo, e l'a con accento circonflesso tm n con tilde a con accento circonflesso e lunga n a con accento circonflesso ni è il conoscitore di atma con accento circonflesso, ossia del seo universale.10 K con accento circonflesso l'amsa, l'uccello, o cigno. Dice l'n a con accento circonflesso davindu con con accento acuto panishad, rig vedda, tradotto dalla società teosofica di kumbakonam, la lettera a è considerata come l'aula destra dell'uccello amsa, la u come la sinistra, la m come la coda, e l'arda ma con accento circonflesso t r a con accento circonflesso, mezzo metro, come la sua testa undici eternità per gli orientali un significato affatto diverso che per noi. Generalmente indica i cento anni o età di brama con accento circonflesso, la durata di un ma con accento circonflesso kalpa, ossia un periodo di 311 miliardi 40 milioni virgola 000 di anni. 12 è detto nello stesso n a con accento circonflesso davindu, un yogi che cavalca l'amsa, così meditando sull'aum, non è toccato da influenze k con accento circonflesso ormiche, né da milioni di peccati. 13 rinunza alla vita della personalità fisica, se vuoi vivere nello spirito. 14 tre stati di coscienza, che sono in lunga con accento circonflesso grat, la veglia, svapna, il sogno, e susciupti, il sonno profondo. Questi tre stati di yoga conducono al quarto, quindici lo stato turiya, al di là dello stato di sonno senza sogni, lo stato supremo, di alta coscienza spirituale. 16 alcuni mistici orientali distinguono sette piani di essere, i sette locca spirituali o mondi entro il corpo di k con accento circonflesso l'amsa, il cigno fuori del tempo e dello spazio, che si muta nel cigno nel tempo quando diventa Brahma invece di Brahman. 17 il mondo fenomenico dei sensi e della coscienza terrestre solamente. 10 l'anima tua vi troverà i fiori della vita, ma un serpente attorto sotto ogni fiore.18 il nome della terza aula è saggezza, al di là si stendono le acque senza spiagge di Akshara, la fonte indistruttibile dell'onniscienza.19 se vuoi attraversare in colme la prima aula, non lasciare che la tua mente confonda i fuochi del desiderio, che vi ardono, con il sole della vita. Se vuoi attraversare in colme la seconda, non fermarti ad aspirare la fragranza dei suoi fiori inebrianti. Se vuoi liberarti dalle catene karmiche, non cercare il tuo guru in queste regioni M A con accento circonflesso Y A con accento circonflesso V che. I saggi non si attardano nei giardini dei sensi. I saggi non curano le voci sedutrici dell'illusione. Cerca chi deve darti la nascita venti nell'aula della sapienza, nell'aula, che si trova al di là, dove le ombre sono ignote, e dove la luce della verità splende con gloria in peritura. Ciò che è increato, risiede in te, o discepolo, come risiede in quell'aula. Se vuoi raggiungerlo ed unificare i due, devi spogliarti delle fosche vesti d'illusione. Soffoca la voce della carne, non permettere che immagine di senso si ponga tra la sua luce e la tua, affinché le due possano fondersi in una. E avendo conosciuto la tua propria aia con accento circonflesso 9,21 fuggi l'aula della cognizione. Quest'aula è pericolosa nella sua perfida bellezza, è necessaria soltanto per la tua preparazione. Guardati, o l'anu, affinché la tua anima, abbagliata da uno splendore illusorio, non si attardi e non punto si appresa nella sua ingannevole luce. 18 L'aula dell'istruzione preliminare. La regione astrale, il mondo psichico delle percezioni soprasensibili e delle visioni illusorie, il mondo dei medium. È il grande serpente astrale di Eliphas Levi. Nessun fiore colto in quelle regioni è mai stato portato sulla terra senza un serpente ravvolto attorno allo stelo. È il mondo della grande illusione. 19 Regione della piena coscienza spirituale, oltre la quale non vi è più pericolo per chi l'ha raggiunta. 20 L'iniziato il quale, mediante la conoscenza che gli impartisce, guida il discepolo alla sua seconda nascita, o nascita spirituale, si chiama padre, guru o maestro. 21 A e A con accento circonflessona è l'ignoranza, o non sapienza, l'opposto di conoscenza, il lunga n con tilde A con accento circonflessona. 11 Questa luce splende dalla gemma del grande incantatore, M A con accento circonflessona. 22 Essa affascina essenzia cieca la mente e lascia l'incauto come un rottame abbandonato. La farfallina attratta dalla vivida fiamma della tua lampada notturna, è condannata a perire nel viscido olio. L'anima imprudente, che non riesce nella lotta contro il demone beffardo dell'illusione, ritornerà, schiava di M A con accento circonflessora, alla terra. Osserva le legioni di anime. Osserva come esse si librano sopra il tempestoso mare della vita umana, e come, esauste, insanguinate, con le ali infrante, l'una dopo l'altra cadono nelle turgide onde. Battute dalla furia dei venti, inseguite dall'uragano, esse sono travolte nei gorghi e scompaiono nel primo grande vortice. Se vuoi, o discepolo, attraverso l'aula della sapienza raggiungere la valle di beatitudine, chiudi fortemente i tuoi sensi alla grande e funesta eresia della separazione che ti allontana dalla pace. Non lasciare che il tuo divino nato, immerso nell'oceano di M A con accento circonflesso Y A con accento circonflesso, si distacchi dalla madre universale, anima, ma lascia che l'inneo potere si ritiri nel più intimo asilo, nella camera del cuore.23 Nel soggiorno della madre del mondo.24 Allora dal cuore quel potere si innalzerà alla sesta regione, la media, posta fra i tuoi occhi, dove diventerà il respiro dell'anima una, la voce che tutto riempie, la voce del tuo maestro. 22 Nelle religioni exoteriche M A con accento circonflesso Y A è un demone, un'asura, ma nella filosofia esoterica personifica la tentazione dell'uomo per mezzo dei suoi vizi, e tradotto letteralmente il suo nome significa ciò che uccide l'anima. Lo si rappresenta sotto l'aspetto di un re, dei M A con accento circonflesso Y A, con una corona nella quale brilla una gemma di tale splendore, che acceca a tutti coloro che la guardano, questo splendore si riferisce evidentemente al fascino che il vizio esercita su certe nature. 23 La camera interna del cuore, detta in sanscrito Brahma pura. L Igneo potere è Kundalini. 24 Potere e madre del mondo sono nomi dati a Kundalini, uno dei poteri mistici dello Yogi. Kundalini è Buddhi considerato come principio attivo, anziché passivo, come lo è generalmente quando lo si considera soltanto come veicolo o sede dello Spirito Supremo, di Atma con accento circonflesso, è una forza elettro-spirituale, un potere creativo che, messo in azione, può uccidere così facilmente come creare. 12 Allora soltanto potrai diventare un viandante del cielo, 25 che cammina sui venti al di sopra delle onde, senza che i suoi passi tocchino le acque. Prima di porre il piete sull'ultimo gradino della scala dei suoni mistici, devi udire la voce del tuo Dio interno in sette modi. I uno primo è come la dolce voce dell'usignolo che rivolge alla sua compagna un canto da Dio. Il secondo giunge come il suono di un cembalo d'argento dei D.A. con accento circonflessoni, che sveglia le stelle palpitanti. Il seguente è come il lamento melodioso di uno spirito dell'oceano, imprigionato nella sua conchiglia. E questo è seguito dal canto della vinna con accento circonflesso.26 Il quinto, come il suono di un flauto di canna, zufola nel tuo orecchio. Poi si trasforma in uno squillo di tromba. L'ultimo vibra come il sordo brontolio di una nuvola carica di tuono. Il settimo copre tutti gli altri suoni. Essi muoiono, né più si odono. Quando i sei ventisette sono distrutti e deposti ai piedi del maestro, allora il discepolo è immerso nell'1,28 diventa quest'uno e in esso vive. Prima di entrare in quel sentiero, devi distruggere il tuo corpo lunare, purificare il tuo corpo mentale.29 Il tuo cuore. Le pure linfe della vita eterna, chiare a cristalline, non possono mescolarsi con le correnti fangose delle tempeste.30 del monsone. La goccia di rugiada celeste, che brilla ai primi raggi del mattino nel senno del loto, quando cade a terra diventa argilla, ecco, la perla è ora una stilla di fango. 25 Keshara, pellegrino o viandante del cielo. Come spiega il sesto Adi ha con accento circonflesso Iade li lunga n con tilde ha con accento circonflesso Neshwar, di questo re dei trattati mistici, il corpo dello Yogi diventa come formato di vento, come una nuvola dalla quale siano germogliate delle membra, dopo ciò egli, lo Yogi, scorge le cose che stanno al di là dei mari e degli astri, ode il linguaggio dei Deva e lo comprende, e percepisce ciò che avviene e nella mente della formica. 26 Lavina con accento circonflesso è uno strumento indiano a corde, simile all'iuto. 27 I sei principi, e cioè quando la personalità inferiore è distrutta e l'individualità interna si è immersa e perduta nel settimo, nello spirito. 28 Il discepolo è uno con bramen, o a con accento circonflesso tm a con accento circonflesso. 29 La forma astrale prodotta dal principio k con accento circonflesso mico, il k con accento circonflesso ma r u con accento circonflesso pa, o corpo del desiderio. 30 m a con accento circonflesso nasa r u con accento circonflesso pa. Il primo si riferisce al sé astrale o personale, il secondo all'individualità, o ego che si reincarna, la cui coscienza sul nostro piano, cioè il manas inferiore deve essere paralizzata. 13 Lotta con i tuoi pensieri impuri prima che essi giungano a dominarti. Agisci con loro come essi agirebbero con te, perché, se da te risparmiati prendono radice e crescono, sappilo bene, questi pensieri ti opprimeranno ed uccideranno. Stai in guardia, o discepolo, non tollerare che neppure l'ombra loro ti avvicini. Poiché questa cosa di tenebre, crescendo in grandezza e in forza, assorbirebbe l'essere tuo, prima che tu fossi pienamente conscio della presenza del nero ed immondo mostro. Prima che il mistico potere 31 possa fare di te un dio, o l'anu, devi aver conquistato la facoltà di uccidere a volontà la tua forma lunare. Il sé della materia e il sé dello spirito non possono mai incontrarsi. Uno dei due deve sparire, non v'è posto per entrambi. Prima è che la mente della tua anima possa comprendere, il germe della personalità deve essere schiacciato, il tarlo del senso distrutto senza possibilità di resurrezione. Tu non potrai percorrere il sentiero prima di essere diventato il sentiero stesso.32 Tenda la tua anima all'orecchio ad ogni grido di dolore, come il loto apre il suo cuore per bere il sole mattutino. Il sole ardente non asciughi una sola lagrima di dolore, prima che tu stesso non l'abbia tersa dall'occhio del sofferente. Ma ogni rovente lacrima umana cada sul tuo cuore, e vi resti, né tergerla mai, finché non si è rimosso il dolore che la produsse. Queste lacrime, o tu dal cuore pieno di compassione, sono i rivi che irrigano i campi della carità imperitura. Su questo suolo germoglia e sboccia a mezzanotte il fiore di Buddha.33 è più difficile a trovare, più raro a vedere che 31 kundalini, il potere serpentino, o fuoco mistico, chiamato anche anulare a cagione della sua azione e del suo progresso in forma di spirale per il corpo dell'asceta che sviluppa questo potere in sé. È un potere elettrico, igneo, occulto o fuatico, la grande forza primitiva, che si cela in tutta la materia organica-inorganica. 32 di questo sentiero si parla in tutte le opere mistiche. Come Krishna dice nell'Illunga N con tilde ha con accento circonflesso Neshwar, quando questo sentiero è scorto, sia che si cammini verso i fiori dell'Oriente, o verso le stanze dell'Occidente, senza movimento, o arciere, è il viaggio per questa via. In questo sentiero, da qualunque parte tu voglia andare, questa parte diventa il tuo sé. Tu sei il sentiero, si dice al guru adepto, e da questi al discepolo dopo l'iniziazione. Io sono la via in sentiero, dice un altro maestro. 33 il grado di adepto, il bocciolo di un bodhisattva. 14 non quello dell'albero vogai. Esso è il seme della liberazione dalla rinascita. Esso isola la rat dalla lotta e dal desiderio, e lo conduce attraverso i campi dell'essere alla pace e alla beatitudine, note soltanto nella terra del silenzio e del non essere. Uccidi il desiderio, ma se lo uccidi, guarda che non risorga ancora di nuovo fra i morti. Uccidi l'amore della vita, ma se distruggi con accento circonflesso.34 non sia per sete di vita eterna, ma per sostituire il fuggevole con l'imperituro. Nulla desidera. Non opporti al karma, né alle immutabili leggi della natura. Ma lotta soltanto contro il personale, il transitorio, l'evanescente e il perituro. Aiuta la natura, e lavora con lei, e la natura ti considererà uno dei suoi creatori e ti renderà obbedienza. E aprirà dinanzi a te le porte delle sue camere segrete e scoprirà al tuo sguardo i tesori nascosti nel più profondo del suo puro, virgine o seno. Incontaminata dalla mano della materia, essa mostra i suoi tesori soltanto all'occhio dello spirito, l'occhio che mai non si chiude, l'occhio per il quale non avelo nessuno dei suoi regni. Allora ti mostrerà essa i mezzi e la via, la prima porta e la seconda, la terza, e fino alla settima. E poi, la meta, oltre la quale stanno, immerse nel solare splendore dello spirito, glorie inespresse, non viste che dall'occhio dell'anima. Una sola è la via che conduce al sentiero, alla sua fine soltanto può udirsi la voce del silenzio. La scala per cui sale il candidato è fatta di gradini di sofferenze e di pene, queste non possono essere ridotte al silenzio che dalla voce della virtù. Guai a te, o discepolo, se un sol vizio vi è, che tu non abbia lasciato, perché allora la scala cederà e ti rovescerà indietro, il suo piede posa nel fango profondo dei peccati e degli errori tuoi, e prima che tu possa tentar di traversare questo ampio abisso di materia, devi lavare i tuoi piedi nelle acque della rinunzia. Guardati dal porre un piede ancora lordo sul gradino più basso della scala. Guai a colui che osa contaminare un sol gradino con i piedi fangosi. Il fango immondo e vischioso seccherà, diverrà tenace, gli 34 ta con accento circonflesso, la volontà di vivere, il timore della morte e l'amore della vita, quella forza o energia che è causa della rinascita. Quindi ci avvincerà i piedi al gradino, e, come fosse un uccello invischiato dall'astuto uccellatore, gli sarà precluso ogni ulteriore progresso. I suoi vizi prenderanno forma e lo trascineranno in basso. I suoi peccati alzeranno le loro voci, simili al ghigno e dal singhiozzo dello sciacallo dopo il tramonto, i suoi pensieri diverranno falange e lo trarranno schiavo e prigione. Uccidi i tuoi desideri, o lanù, rendi impotenti i tuoi vizi, prima di muovere il primo passo nel solenne tuo viaggio. Soffoca i tuoi peccati e rendili muti per sempre, prima di alzare un piede per ascendere la scala. Fa tacere i tuoi pensieri e fissa l'intera tua attenzione sul tuo maestro, che ancora non vedi, ma già presenti. Fondi i tuoi sensi in un solo, se vuoi esser sicuro contro il nemico. Con questo senso solo, che sta nascosto nel cavo del tuo cervello, l'arduo sentiero che conduce al maestro può aprirsi davanti ai deboli occhi dell'anima tua. Lunga e penosa è la via che ti sta innanzi, o discepolo. Un sol pensiero al passato che hai lasciato addietro ti farebbe ricadere, e dovresti riprendere da capo l'ascesa. Uccidi in testa e sogni ricordo di passate esperienze. Non guardare addietro, o sei perduto. Non credere che il desiderio possa mai essere ucciso soddisfacendolo o saziandolo, poiché questa è un'abominazione ispirata da M.A. con accento circonflesso R.A. Nutrendo il vizio lo si sviluppa e lo si rinforza come il verme che ingrassa nel cuore del fiore. La rosa deve ridiventare il bocciolo, germinato dal ramo materno, prima che il parassita ne abbia roso il cuore da parte a parte e ne abbia assorbito la linfa vitale. L'albero d'oro mette i suoi brillanti germogli prima che la tempesta dissecchi il suo tronco. Il discepolo deve ritornare allo stato d'infanzia perduto, innanzi che il primo suono possa giungere al suo orecchio. La luce del maestro unico, l'unica, perenne, aurea luce dello spirito, diffonde fin da principio i suoi fulgi di raggi sul discepolo. Questi raggi penetrano oltre le dense e oscure nubi della materia. Or qua, or là, questi raggi la illuminano, come gli sprazzi di sole rischiarano in suolo attraverso il denso fogliame della giungla. Ma, o discepolo! Se la sedici carne non è passiva, fredda la mente, ferma e pura l'anima come un lucido diamante, l'irradiazione non raggiungerà la camera, la sua luce di sole non riscalderà il cuore, né i suoni mistici delle vette H.A. con accento circonflesso scicchi 35 raggiungeranno l'orecchio, per quanto attento, allo stadio iniziale. Se non odi, non puoi vedere. Se non vedi, non puoi udire. Udire e vedere, ecco il secondo stadio. Punto quando il discepolo vede ode, gusta e odora, chiusi gli occhi, le orecchie, la bocca e le narici, quando i quattro sensi si fondono e sono pronti a passare nel quinto, quello del tatto interno, allora ha raggiunto il quarto stadio. E nel quinto, o distruttore dei tuoi pensieri, tutti questo devono ancora essere uccisi, sì che non possano mai più rianimarsi. Punto 36 rattieni la mente da tutti gli oggetti esterni, da tutte le esterne visioni. Reprimi le interne immagini, perché non gettino un'ombra oscura sulla luce dell'anima tua. Tu sei ora indiacca con accento circonflesso rana con accento circonflesso virgola 37 il sesto stadio. Giunto nel settimo, o fortunato, non percepirai più la triade sacra virgola 38 poiché tu stesso sarai diventato questa triade. Tu e la tua mente, come gemelli l'uno accanto all'altro, la stella che ti è meta splende sulla tua testa.39 I tre risiedono nella gloria e nella beatitudine ineffabile, hanno ora abbandonato i 35 i suoni mistici, la melodia, che odono gli asceti al cominciare del loro ciclo di meditazione, chiamata anacona accento circonflesso ata shabda dei yogi. L'anacona accento circonflesso ata è il quarto dei chakra. 36 ciò significa che nel sesto stadio di sviluppo, il quale nel sistema occulto è di h con accento circonflesso rana con accento circonflesso, ogni senso come facoltà individuale deve essere ucciso o paralizzato, su questo piano, passando nel settimo senso, il più spirituale, e fondendosi con esso. 37 di H con accento circonflesso rana con accento circonflesso è la concentrazione intensa e perfetta della mente sopra qualche oggetto interiore, accompagnata dall'assoluta astrazione da tutto ciò che appartiene all'universo esterno, al mondo dei sensi. 38 ogni stadio di sviluppo nell'r ha con accento circonflesso ya yoga è simboleggiato da una figura geometrica. Questo è il triangolo sacro e precede di H con accento circonflesso rana con accento circonflesso. Il è il segno degli alti che l'ha con accento circonflesso, mentre un'altra specie di triangolo è quello di alti iniziati. E il simbolo i del quale parla Buddha è che egli usò come simbolo della forma corporea del Tata con accento circonflesso gata quando è libero dai tre metodi del praia con accento circonflesso. Oltrepassati gli stadi preliminari e inferiori, il discepolo non vede più il ma il punto, abbreviazione del, il settenario completo. Non è possibile darne qui la vera forma, perché di certo verrebbe immediatamente adottata da qualche ciarlatano, è profanata per scopi fraudolenti. 39 La stella che splende sopra la testa è la stella dell'iniziazione. Il segno degli Shaiva, o devoti della setta di Shiva, patrono di tutti gli oggi, è un punto rotondo e nero, attualmente forse simbolo del sole, ma della stella dell'iniziazione nell'occultismo dei tempi antichi. 17 loro nomi nel mondo di Maya. Sono divenuti una sola stella, il fuoco che arde ma non consuma, il fuoco che è la pa con accento circonflesso di 40 della fiamma. E questo, o trionfante i oggi, gli uomini chiamano di a con accento circonflesso N A con accento circonflesso,41 Il vero precursore di Sam A con accento circonflesso di.42 Ed ora il tuo sé è perduto nel sé, tu lo sei in te stesso, immerso in quel sé, dal quale da principio fosti irradiato. Dove è la tua individualità, o l'anu, dove è il l'anu stesso. È la scintilla perduta nella fiamma, la goccia nell'oceano, il raggio sempre presente divenuto il tutto, l'eterno splendore. Ed ora, o l'anu, tu sei l'attore e lo spettatore, l'irradiante e l'irradiazione, la luce nel suono, e il suono nella luce. Tu hai conosciuto i cinque impedimenti, o beato. Tu sei il loro vincitore, il Signore del Sesto, un'espositore dei quattro modi di verità.43 La luce che cade su loro emana da te, che fosti discepolo, che ora sei maestro. E di questi modi di verità, non sei tu passato per la conoscenza di ogni miseria, verità prima. Non hai tu dominato il re dei m a con accento circonflesso r a con accento circonflesso a tu, alla porta dell'assemblea, seconda verità.44 Non hai tu distrutto il peccato alla terza porta, e raggiunto la terza verità? 40 La base, a pa con accento circonflesso di, della fiamma irraggiungibile sempre sina quando l'asceta è ancora in questa vita. 41 di a con accento circonflesso na è il penultimo stadio su questa terra, a meno che non si diventi un completo ma con accento circonflesso tm a con accento circonflesso. Come già si è detto, in questo stato il r a con accento circonflesso i ai oggi è tuttora spiritualmente cosciente di sé e dell'opera dei suoi principi superiori. Ancora un passo, ed egli sarà sul piano al di là del settimo, o del quarto secondo certe scuole, che, dopo la pratica di pratia con accento circonflesso h a con accento circonflesso r a, esercizio preliminare che ha scopo di dominare la mente e di pensieri, contano di h a con accento circonflesso r a con accento circonflesso na, di a con accento circonflesso na e sama con accento circonflesso di, e comprendono questi tre sotto il nome generico di sanjama. 42 Sama ha con accento circonflesso di è lo stato in cui la sceta perde la coscienza di ogni individualità, compresa la sua. Egli diventa il tutto. 43 I quattro modi di verità sono nel buddismo settentrionale, q, sofferenza o miseria, tu, la riunione delle tentazioni, mu, la loro distruzione, e tau, il sentiero. I cinque impedimenti sono la conoscenza della miseria, la verità sulla debolezza umana, le astensioni penose, e l'assoluta necessità della separazione da tutti i vincoli della passione, e perfino del desiderio. Il sentiero della salvezza è l'ultimo. 44 Alla porta dell'assemblea sta il re dei m a con accento circonflesso r a con accento circonflesso, il ma con accento circonflesso m a con accento circonflesso ra, e tenta di accecare il candidato con il fulgore della sua gemma. 18 Non sei tu entrato nel tau, il sentiero che conduce alla conoscenza, quarta verità.45 Ed ora riposa sotto l'albero bodi, che è la perfezione di ogni conoscenza, perché, sappilo, tu sei il signore di sama con accento circonflesso di, lo stato di visione infallibile. Ecco. Tu sei divenuto la luce, tu sei divenuto il suono, tu sei il tuo maestro e il tuo Dio. Tu, tu stesso sei l'oggetto della tua ricerca, la voce ininterrotta, che risuona attraverso le eternità. Immutabile, libera da peccato, i sette suoni nell'uno, la voce del silenzio. Om Tat, Sat. 45 Questo è il quarto dei cinque sentieri della rinascita, che conducono tutti gli esseri umani in perpetui stati di dolore e di gioia. Questi sentieri non sono che suddivisioni del sentiero unico, quello tracciato dal karma. 19, F.R.A.M.M.E.N.T.O.2, I.D.U.E.S.E.N.T.I.E.R.I.20, i due sentieri, id ora, o maestro di compassione, indica tu la via ad altri uomini. Guarda tutti coloro che bussano per essere ammessi, e aspettano nell'ignoranza e nelle tenebre che la porta della dolce legge si apra. La voce dei candidati, non rivelerai tu la dottrina del cuore.46 O Signore della tua pietà? Rifiuterai tu di guidare i tuoi servi al sentiero della liberazione? Dice il maestro, due sono i sentieri, tre le grandi perfezioni, sei le virtù che trasformano il corpo nell'albero della conoscenza.47 Chi li avvicinerà chi vi entrerà per primo? Chi primo udirà la dottrina dei due sentieri in uno, la verità del cuore segreto svelata?48 La legge che, rifugendo dalla scienza, insegna la sapienza, rivela una storia di dolore. Ahimè, ahimè, tutti gli uomini posseggono a con accento circonflesso l'aria, sono uniti con la grande anima, e tuttavia a con accento circonflesso l'aria giova loro così poco. Osserva come, simile alla luna riflessa nelle acque tranquilli, a con accento circonflesso l'aria si specchia in ciò che è piccolo come in ciò che è grande, si riflette nei più minuti atomi, eppur non riesce a giungere al cuore di tutti. Ahimè, si pochi uomini approfittano del dono, del beneficio inestimabile di ottenere la verità, la retta percezione delle cose esistenti, la conoscenza del non esistente. 46 Le due scuole della dottrina di Buddha, l'esoterica e l'exoterica, sono chiamate rispettivamente dottrina del cuore e dottrina dell'occhio. Il Bodhidharma, la religione e sapienza della Cina, donde i nomi pervennero nel Tibet, le chiamò Tzungmen, scuola esoterica, e Chiaumen, scuola exoterica. La prima è così chiamata, perché consiste negli insegnamenti che emanarono dal cuore di Gautama Buddha, mentre la dottrina dell'occhio fu opera della sua testa, ossia del suo cervello. La dottrina del cuore si chiama pure sigillo della verità ovvero sigillo, simbolo che si trova al principio di quasi tutte le opere esoteriche. 47 Albero della conoscenza è un titolo dato dai seguaci del Bodhidharma a coloro che hanno raggiunto la vetta della cognizione mistica, agli adepti. N ha con accento circonflesso G ha con accento circonflesso Riuna, il fondatore della scuola Madiamika, fu chiamato l'albero Drago, essendo il Drago un simbolo di sapere e di conoscenza. L'albero è onorato perché sotto l'albero Bodhi, sapienza, Buddha ricevette la nascita e l'illuminazione, predicò il suo primo sermone e morì. 48 Il cuore segreto è la dottrina esoterica. 21 Dice il discepolo, o maestro, che farò per giungere alla sapienza? Che, o saggio, per raggiungere la perfezione. Cerca i sentieri. Ma, o lanu, sia pure il tuo cuore prima di incominciare il viaggio. Prima di muovere un passo, impara a distinguere il vero dal falso, l'effimero dall'imperituro. Soprattutto impara a distinguere la scienza del cervello dalla sapienza dell'anima, la dottrina dell'occhio da quella del cuore. Sì, l'ignoranza è come un recipiente chiuso e senza aria, l'anima è come un uccello che vi sia prigioniero. Esso non gorgheggia né può muovere una piuma, il cantore sta torpido e muto, e muore di esaurimento. Tuttavia l'ignoranza stessa è ancora preferibile alla scienza del cervello, quando la sapienza dell'anima non la illumina e la guida. I semi della sapienza non possono germogliare né crescere in un luogo senza aria. Per vivere e raccogliere esperienza, la mente ha bisogno di larghezza, di profondità e di punti per attirarla verso l'anima diamante. 49 Non cercar questi punti nel regno di Maya, ma sorvola oltre le illusioni, e cerca l'eterno, l'immutabile Sat,50 diffidando dei falsi suggerimenti della fantasia. Poiché la mente è come uno specchio, raccoglie polvere mentre riflette.51 Sono necessarie le dolci brezze della sapienza dell'anima per levare la polvere delle nostre illusioni. Cerca, o principiante, diffondere insieme la tua mente e l'anima tua. Fuggi l'ignoranza, fuggi del pari l'illusione. Distogli il tuo sguardo dagli inganni del mondo, diffida dei tuoi sensi che sono bugiardi. Ma dentro il tuo corpo, tabernacolo delle tue sensazioni, cerca nell'impersonale l'uomo eterno.52, e trovatolo, guarda all'interno, tu sei Buddha.53, 49 Anima Diamante, Vaira Sattva, è un titolo del Buddha Supremo, del Signore di tutti i misteri, chiamato Vaira Dara e Adi Buddha. 50 Sat, l'unica eterna e assoluta realtà e verità, al di fuori della quale tutto è illusione. 51 dalla dottrina di Shinsian, che insegna che la mente umana è come uno specchio il quale attira e riflette ogni atomo di polvere, e deve, come uno specchio, essere curata e spolverata ogni giorno. Shinsian fu il sesto patriarca della Cina settentrionale, e insegnò la dottrina esoterica del Bodhidharma. 52 L'ego che si reincarna è chiamato dai buddhisti del nord il vero uomo, il quale in unione con il suo sé superiore diventa un Buddha. 22 Fuggi la lode, o devoto. La lode conduce all'illusione di sé stessi. Il tuo corpo non è il sé, ma il tuo sé è in sé stesso senza corpo, né lode o biasimo lo toccano. L'ammirazione di sé, o di scepolo, è come un'alta torre sulla quale si è salito uno stolto vanitoso. Egli vi sta in orgogliosa solitudine, non visto da alcuno fuor che da sé stesso. La falsa dottrina è respinta dal saggio, e dispersa eventi dalla buona legge. La ruota di questa gira per tutti, per l'umile e per il superbo. Per la folla è la dottrina dell'occhio, la dottrina del cuore per gli eletti. Quella ripete con orgoglio, ecco, io so, questi, che hanno raccolto in umiltà, confessano semplicemente, così ho sentito cinquantaquattro dire. Grande vaglio è il nome della dottrina del cuore, o discepolo. La ruota della buona legge gira rapidamente. Macina notte e giorno. E libera il chicco d'oro dall'inutile involucro, e da ogni rifiuto monda la farina. La mano del karma guida la ruota, i giri suoi segnano i battiti del cuore karmico. La vera conoscenza è la farina, il falso sapere l'invoglio. Se vuoi nutrirti del pane della sapienza, devi intridere la tua farina con le chiare acque di Amrita.55 Ma se intridi gli invogli con la rugiada di M A con accento circonflesso Y A con accento circonflesso, non produrrai cibo che per le nere tortore della morte, uccelli della nascita, della corruzione e del dolore. Se taluno ti dice che per diventare Aran devi cessar d'amare tutti gli esseri, rispondigli che è in mente. Se taluno ti dice che per conquistare la liberazione devi odiare tua madre e trascurare tuo figlio, rinnegare tuo padre e chiamarlo capo di famiglia.56, rinunziare ad ogni pietà per gli uomini e le bestie, rispondi che la sua lingua è mendace.53 Buddha significa illuminato.54 Formula usuale che precede gli scritti sacri buddistici, e che significa che ciò che la segue è stato raccolto per tradizione orale diretta dal Buddha e dagli Arath.55 L'immortalità.56 Ratapa con accento circonflesso La, il grande Arath, così si rivolge a suo padre nella leggenda intitolata Ratapa con accento circonflesso la su con con accento acuto trasanne. Ma, siccome tutte queste leggende sono allegoriche, ad esempio, il padre di Ratapa con accento circonflesso la ha un'abitazione con sette porte, così questo è un rimprovero rivolto a coloro che le accettano alla lettera. 23 Così insegnano i Tirtica, i miscredenti.57 Se ti si insegna che il peccato nasce dall'azione e la pace dall'assoluta inazione, rispondi che ciò è erronea. L'impermanenza delle azioni umane, la liberazione della mente dalla schiavitù con la cessazione del peccato e dell'errore non sono per gli Ego Deva.58 Così dice la dottrina del cuore.59 Il Dharma dell'occhio è la personificazione dell'esterno e dell'inesistente. Il Dharma del cuore è l'incarnazione di Bodhi, il permanente e imperituro. La lampada arde luminosa quando il lucignolo e l'olio sono mondi. Per renderli immondi è necessario qualcuno che li netti. La fiamma non avverte il processo di ripulitura. I rami di un albero sono scossi dal vento, il tronco rimane immobile. L'azione e l'inazione possono entrambe trovar posto in te, il corpo può essere agitato, e la tua mente tranquilla, e l'anima tua limpida come un lago al pestre. Vuoi tu diventare uno gli oggi del circolo del tempo? Allora, o Lanu, non credere che il ritirarti in oscure foreste, orgogliosamente isolato dagli uomini, non credere che il viver d'erbe e di radici, e il dissetarti con la neve della grande catena, non credere, o devoto, che ciò sia per condurti alla meta della liberazione suprema. Non pensare che il frangerti le ossa, che il lacerarti la carne e i muscoli ti uniscano al tuo silente. 6.60 Non pensare, o vittima delle tue ombre, 61 che il tuo dovere verso la natura e verso l'uomo sia compiuto quando i peccati della tua rozza forma siano vinti. I beati ebbero a sdegno di far ciò. Il leone della legge, il signore di compassione, scorgendo la vera causa del dolore umano, immediatamente abbandonò il dolce ma egoistico riposo delle quiete solitudini. Da con accento circonflesso Ragnaca 62, 57 Bramani asceti, che visitano i santuari e specialmente i bagni sacri. 58 Gli ego che si reincarnano. 59 La sapienza vera, divina. 60 Il sé superiore, il settimo principio. 61 I nostri corpi fisici sono chiamati ombre nelle scuole mistiche. 62 Una foresta, un deserto. Ragnaca è una remita che si ritira nelle giungle e vive in una foresta, diventando Yogi. 24 Egli divenne il maestro dell'umanità. Yulai, 63 Entrato nel Nirvana, predicò per monti, per piani e per città e deva, agli uomini e dagli dèi. 64 Semina atti di bontà, e ne raccoglierai frutti. Non compiere un atto di pietà è compiere un peccato mortale. Così dice il saggio. Ti esterrai tu dall'azione? Non così sarà liberata l'anima tua. Per raggiungere il Nirva con accento circonflesso nasi deve raggiungere la conoscenza di sé, e la conoscenza di sé nasce dalle opere d'amore. Pazienta, o candidato, come chi non teme la sconfitta, ne è avido del successo. Fissa lo sguardo dell'anima tua sulla stella di cui sei raggio. 65 La stella fiammeggiante che brilla nell'oscura profondità dell'ente eterno, per i campi sconfinati dell'ignoto. Sii perseverante come chi dura eterno. Le tue ombre vivono e svaniscono. E virgola 66 ciò che in te vivrà per sempre, ciò che in te conosce, perché è la conoscenza stessa, non è della vita fuggevole, è l'uomo che era, che è e che sarà, l'ora del quale non suonerà mai. Se vuoi raccogliere dolce pace e riposo, o discepolo, cospargi con i semi del merito i campi delle messi future. Accetta i dolori della nascita. Ritirati dalla luce del sole nell'ombra per lasciar maggior posto agli altri. Le lacrime che irrigano il suolo riarso della pena e del dolore, fanno sbocciare i fiori e maturare i frutti della retribuzione karmica. Dalla fornace della vita umana e dal suo nero fumo sorgono fiamme alate, fiamme purificate, che levandosi 63 Yulai è l'equivalente cinese editata con accento circonflesso gata, titolo che è conferito ad ogni Buddha. 64 Tutte le tradizioni settentrionali e meridionali concordano nel far lasciare a Buddha la solitudine non appena ebbe risolto il problema della vita, cioè ricevuta l'illuminazione interna, per ammaestrare pubblicamente l'umanità. 65 Secondo la dottrina esoterica, ogni ego spirituale è un raggio di uno spirito planetario. 66 Le personalità, o corpi fisici, sono chiamate ombre, per la loro evanescenza. 25 Sotto l'occhio karmico, te sono infine la trama gloriosa delle tre vesti del sentiero.67 Queste vesti sono, nirma con accento circonflesso naka con accento circonflesso ya, sambhogaka con accento circonflesso ya, e dharma ha con accento circonflesso ya, veste sublime 68. 67 Questa stessa venerazione popolare chiama Buddha di compassione i bodhisattva che, raggiunto il grado di arat, compiuto cioè il quarto o settimo sentiero, rifiutano di passare nello stato nirvanico, ossia di indossare la veste di dharma ha con accento circonflesso ya e passare all'altra riva, perché non sarebbe allora più in loro potere di assistere l'umanità anche per quel poco che il karma permette. Essi preferiscono rimanere invisibili, in spirito, per così dire, nel mondo, e contribuire alla salvezza degli uomini spingendoli a seguire la buona legge, guidandoli sulla via della virtù. Fa parte del buddismo esoterico del nord l'onorare tutti questi grandi come santi, ed anche il rivolger loro preghiere, come fanno i cattolici e gli ortodossi con i loro santi e protettori, ma la dottrina esoterica non incoraggia simili cose. Vi è una gran differenza tra i due insegnamenti. Il laico esoterico non conosce ha fatto il vero significato della parola nirma con accento circonflesso naka con accento circonflesso ya, da ciò la confusione e le spiegazioni inadeguate degli orientalisti. Lo Shlajintveita ad esempio, crede che nirma con accento circonflesso naka con accento circonflesso ya, significhi la forma fisica assunta dai Buddha quando si incarnano sulla terra, il meno sublime dei loro ingombri terreni buddismi in Tibet, e passa a dare un'esposizione interamente falsa del soggetto. La verità invece è questa, i tre corpi, o forme, buddici sono chiamati, 1, nirma con accento circonflesso naka con accento circonflesso ya, 2, sambhogaka con accento circonflesso ya, 3, dharmaka con accento circonflesso ya. Il primo è la forma eterea che chi avesse la scienza di un adepto assumerebbe volendo lasciare il corpo fisico, e apparire nel corpo astrale. Il bodhisattva sviluppa questa forma in se stesso col procedere nel sentiero. Raggiunta la meta e rifiutatone frutto, egli rimane sulla terra come adepto, e quando muore, invece di andare nel nirva con accento circonflesso na, rimane in quel glorioso corpo che egli stesso sia in tessuto, invisibile ai non iniziati, per vegliare su di loro e proteggerli. Il sambhogaka con accento circonflesso ya è la stessa cosa, ma con l'aggiunta di tre perfezioni, una delle quali è l'obliterazione totale di tutto ciò che è terreno. Il corpo dharmaka con accento circonflesso ya è quello di un Buddha perfetto, e cioè non corpo affatto, ma un soffio ideale, coscienza immersa nella coscienza universale, anima vuota di qualsiasi attributo. Divenuto dharmaka con accento circonflesso ya, un adepto o Buddha lascia ogni relazione o pensiero terreno. Così, per poter aiutare l'umanità, un adepto che ha ottenuto il diritto al nirva con accento circonflesso na rinuncia al corpo dharmaka con accento circonflesso ya, come si dice in linguaggio mistico, conserva del sambhogaka con accento circonflesso ya soltanto la grande e totale conoscenza, e resta nel nirvana con accento circonflesso ya. La scuola esoterica insegna che Gautama Buddha, con parecchi dei suoi arat, è uno di questi nirvana con accento circonflesso k con accento circonflesso ya, e che più alto di lui, per la sua grande rinuncia e per il suo sacrificio al genero umano, non se ne conosce alcuno. 68 Ivid. 26 La Veste Shania 69 può, in vero, procurare la luce eterna. Sola da il nirva con accento circonflesso na della distruzione, essa arresta la rinascita ma, o l'anu, uccide pure la compassione. Vestiti della gloria di dharmaka con accento circonflesso ya, i perfetti Buddha non possono più contribuire alla salvezza dell'uomo. Ahimè! Saranno i sé sacrificati al sé, l'umanità lo sarà alla gioia di singole unità? Sappi, o principiante, questo è il sentiero aperto, la via della felicità egoistica, sdegnata dai bodhisattva del cuore segreto, dai Buddha di compassione. Vivere per il bene dell'umanità è il primo passo. Praticare le sei gloriose virtù settanta e secondo. Rivestire l'umile veste del nirva con accento circonflesso na ca con accento circonflesso ya e rinunziare per sé alla beatitudine eterna, per aiutare la salvezza dell'uomo. Raggiungere la beatitudine del nirva con accento circonflesso na ma rinunziarvi è l'ultimo passo, il supremo, il più alto sul sentiero della rinunzia. Sappi, o discepolo, questo è il sentiero segreto prescelto dai Buddha di perfezione, che sacrificarono in sé ai sé più deboli. Ma se le ali della dottrina del cuore attingono troppo alto per te, se tu stesso ha bisogno d'aiuto e temi di offrirne agli altri, allora, o uomo dal timido cuore, ti avverto in tempo, sta contento, riguardo alla legge, della dottrina dell'occhio. E spera ancora. Perché, se oggi non puoi raggiungere il sentiero segreto, lo potrai domani. Se tantuno sappi che nessuno sforzo, per quanto piccolo, in buona o in cattiva direzione, può scomparire dal mondo delle cause. Neppure il fumo disperso rimane senza traccia. Una parola dura pronunciata in vite trascorse non si distrugge, ma inevitabilmente ritorna. 72 La pianta del pepe non produrrà rose, né la candida stella del delicato gelsomino si muterà in spino o in cardo. 69 Veste Shania, da Shania Vesu di R.A. con accento circonflesso Iagria, il terzo grande arato o patriarca, come gli orientalisti chiamano i membri della girarchia dei 33 arat che diffusero il buddismo. Veste Shania vuol dite l'acquisto della sapienza con la quale si entra nel nirva con accento circonflessona di distruzione, della personalità. Letteralmente è la veste d'iniziazione dei neofiti. Ledkins afferma che questa veste d'erba fu introdotta nella Cina dal Tibet sotto la dinastia di Tong. La leggenda cinese, come pure la tibetana dicono che quando nasce un aran si trova a questa punto pianta germogliata in un luogo puro. 70 Praticare il sentiero delle P.A. con accento circonflesso Ramita con accento circonflesso significa diventare iogico il proposito di darsi all'ascetismo. 71 Domani significa nell'incarnazione o rinascita seguente. 72 Dai precetti della scuola prasanga. 27 Tu puoi creare oggi la sorte del tuo domani. Ciascuna delle cause seminate ad ogni istante nel gran viaggio.73 Produce la sua messe di effetti, poiché rigida giustizia regge il mondo. Con l'impulso potente di un'azione infallibile, essere che ai mortali vite di letizia o di dolore, carmica progenie di tutti i nostri pensieri e di tutte le nostre azioni precedenti. Prendi dunque tutto ciò che il merito ti serva, o tu dal cuore paziente. Si di buon animo, e contento al fato. Tale è il tuo karma, il karma del ciclo delle tue nascite, il destino di coloro che, nella loro pena e nel loro dolore, sono nati con te, di coloro che gioiscono e piangono di vita in vita, incatenati alle tue passate azioni. Agisci oggi per loro, ed esse agiranno per te domani. Il bocciolo della rinunzia del sé genera il dolce frutto della liberazione finale. È condannato a perire chi per timor di emme ha con accento circonflesso rasi astiene dal porgere aiuto all'uomo temendo di agire per sé. Il pellegrino che voglia rinfrescare le sue membra stanche nelle acque correnti, ma non osa tuffarsi per timore d'essere travolto, a rischia di soccombere per il caldo. L'inazione basata sulla preoccupazione egoistica non può portare che cattivi frutti. Il devoto egoista vive senza scopo. L'uomo che nella vita non ha compiuto il lavoro destinato gli ha vissuto in vano. Segui la ruota della vita, segui la ruota del dovere verso la razza e la famiglia, verso l'amico e il nemico, e chiudi la tua mente ai piaceri come ai dolori. Esaurisci la legge della retribuzione karmica. Acquista sedi per la tua futura nascita. Se non puoi essere il sole, si illumili le pianeta. Se non ti è dato di poter fiammeggiare come il sole meridiano sulla vetta nevosa della purezza eterna, scegli allora, o neofito, più umile corso. Indica la via, per quanto oscuramente, per quanto perduto nella folla, come la stella della sera a coloro che percorrono il proprio sentiero nell'oscurità. Osserva Migmar, quando fra i veli purpurei l'occhio suo accarezza la terra dormiente. Osserva l'aura fiammeggiante della mano di lagpa stese nato di amorosa protezione sopra le teste dei suoi asceti. Entrambi sono ora servi di 73 Il gran viaggio, è il ciclo completo delle esistenze in un giro. 28 Nima,74 lasciati durante la sua assenza soli e silenziosi nella notte. Eppure entrambi nei calpa trascorsi erano brillanti Nima, e potranno in giorni futuri ridiventare due soli. Tale è il cadere e il risorgere in natura, secondo la legge karmica. Sì, o l'anu, come essi. Dà luce e conforto a pellegrino dolente, e cerca colui che sa ancor meno di te, che affranto dalla desolazione e siede affamato del pane della sapienza e del pane che nutre l'ombra senza maestro, né speranza, né consolazione, e predicargli la legge. Digli, o candidato, che colui che fa l'orgoglio e l'amor proprio schiavi della devozione, che, attaccato all'esistenza, pone tuttavia la sua pazienza e la sua sottomissione alla legge come un dolce fiore ai piedi di S.H.A. con accento circonflesso chiatub pa virgola 75 diventa uno srota con accento circonflesso patti 76 in questa vita. I siddi di perfezione possono apparir lontani, assai lontani, ma egli ha fatto il primo passo, è entrato nella corrente, e può conseguire la visione dell'aquila alpina, l'udito della timida cerva. Digli, o aspirante, che la vera devozione può restituirgli la conoscenza, quella conoscenza che era sua nelle vite precedenti. La vista e l'udito del deva non si ottengono in una breve esistenza. Sii umile, se vuoi giungere alla sapienza. Sii ancor più umile, quando l'avrai conquistata. Sii come l'oceano che riceve tutte le correnti e tutti i fiumi. La possente sua calma rimane inalterata, egli non li sente. Reprimi con il tuo divino se è quello inferiore. Reprimi con l'eterno e il divino. Sii, grande è colui che è il distruttore del desiderio, ancor più grande è colui, nel quale il sé divino ha ucciso la conoscenza stessa del desiderio. Vigila l'inferiore, affinché non contamini il superiore. 74 Nima è il sole nell'astrologia tibetana, Migmar, o Marte, è simboleggiato da un occhio, e l'agpa, o mercurio, da una mano. 75 Buddha. 76 Lo srota con accento circonflesso patti, ossia colui che entra nella corrente del nirva con accento circonflesso na, a meno che per qualche ragione eccezionale raggiunga la meta, difficilmente può conseguire il nirva con accento circonflesso na in una sola vita. Si suol dire che un chela incomincia l'ascensione in una vita per finirla soltanto nella settima seguente. 29 La via della libertà finale è dentro il tuo sé, eppure questa via comincia e finisce fuori del sé. 77 Non lodata dagli uomini ed umili all'occhio dell'orgoglioso Tirtica, è la madre di tutti i fiumi, vuota è la forma umana agli occhi dei folli, sebbene sia piena delle dolci acque di Amarita. Tuttavia la sorgente dei sacri fiumi è nella terra sacra 78, e colui che possiede la sapienza è onorato da tutti gli uomini. Gli aran e i saggi dalla visione infinita 79 sono orari come il fiore dell'albero o d'ambara. Gli aran nascono a mezzanotte, insieme con la pianta sacra dai 9 e 7 steli,80 con il fiore santo che sboccia e fiorisce nell'oscurità dalla rugiada pura e sul gelido letto delle vette nevose, delle sommità non violate da piede di peccatore. Nessuno, o l'anu, divienerà nella vita in cui per la prima volta l'anima comincia a bramare la liberazione finale. Pure, o tu che sei ansioso, a nessun guerriero desideroso di combattere nell'aspra lotta tra ciò che è vivo e ciò che è morto,81 a nessuna recluta può negarsi il diritto di entrare nel sentiero che conduce verso il campo di battaglia. Poiché egli o vincerà, o cadrà. Sì, se riuscirà trionfante, il Nirva con accento circonflesso nas sarà suo. Prima che egli rigetti l'ombra sua, la spoglia mortale, questa causa feconda di angoscia e di dolore senza limiti, in lui gli uomini onoreranno un grande e santo Buddha. E se egli cade, non sarà in vano, i nemici uccisi nell'ultima battaglia non torneranno alla vita nella sua esistenza successiva. 77 si intende fuori del sé inferiore, personale. 78 e Tirtika, settari bramani d'oltre Himalaya, sono chiamati infedeli dai buddhisti della terra sacra, il Tibet, e viceversa. 79 la visione illimitata, o vista psichica, sovrumana. Si ritiene che un Aram veda e conosca tutto, tanto da lontano, quanto da vicino. 80 la pianta Shania. Vedi nota pagina 27. 81 ciò che è vivo è l'ego superiore immortale, e ciò che è morto l'ego personale inferiore. 30 Ma se vuoi o raggiungere il nirva con accento circonflessona, o respingere il premio. 82 Non sia tuo movente il frutto dell'azione e dell'inazione, o tu dal cuore indomabile. Sappilo, tre volte onorato è detto il bodhisattva che cambia la liberazione con la rinuncia per vestirsi delle miserie della vita segreta. 83 O candidato al dolore attraverso i cicli. Il sentiero è uno, o discepolo. Pure alla fine è duplice. Le sue tappe sono segnate da quattro e sette porte. Ad un'estremità beatitudine immediata, e all'altra beatitudine differita. Entrambe ricompensano il merito, a te la scelta. L'uno diventa due, l'aperto e il segreto.84 Il primo conduce alla meta, il secondo al sacrificio di sé. Quando hai sacrificato il mutevole al permanente, il premio è tuo, la goccia ritorna con la donde è venuta. Il sentiero aperto conduce all'immutabile mutamento, al nirva con accento circonflessona, al glorioso stato assoluto, alla beatitudine oltre ogni umano pensiero. Così il primo sentiero è liberazione. Ma il secondo sentiero è rinuncia ed è quindi chiamato il sentiero del dolore. Il sentiero segreto conduce un apostrofo a rana ad indicibile dolore mentale, dolore per i morti viventi.85 Impotente pietà per gli uomini votati alla miseria karmica, i saggi non osano arrestare il frutto del karma. Perché è scritto, insegna ad evitare tutte le cause, lascia invece compiere il suo corso all'onda dell'effetto come all'ampio insorgere della marea. 82 V di nota 67. 83 La vita segreta è quella del nirma con accento circonflessonaka con accento circonflessonja. 84 2 Sentiero aperto è quello che si insegna allaico, esoterico e generalmente accettato. Mentre la natura del sentiero segreto si spiega all'iniziazione. 85 Gli uomini, che ignorano le verità e la dottrina esoterica sono chiamati i morti viventi. 31 La via aperta, non appena ne avrai raggiunto la meta, ti condurrà a respingere il corpo bodhisattvico, e ti farà entrare nel tre volte glorioso stato di darmaka con accento circonflessonja.86 che è oblio sempiterno del mondo e degli uomini. La via segreta conduce anche alla beatitudine para nirva con accento circonflessonica ma alla fine di innumerevoli calpa, nirva con accento circonflessonja conquistati e perduti dalla pietà e dalla compassione illimitate per il mondo degli illusi mortali. Ma è detto, l'ultimo sarà il maggiore. Samyaksan Buddha, il maestro di perfezione, abbandonò il suo sé per la salvezza del mondo, fermandosi alla soglia di nirvana, dello stato puro. Punto hai ora la conoscenza di ciò che concerne le due vie. Verrà il tempo in cui dovrai scegliere, o tu dall'anima ardente, quando avrai raggiunto la fine e oltrepassato le sette soglie. La tua mente è chiara. Tu non sei più immerso in pensieri illusori, perché hai tutto imparato. La verità sta senza veli e ti guarda sever nel viso. Dice, dolci sono i frutti del riposo e della liberazione per l'amore di sé, ma più dolci ancora sono i frutti del lungo e amaro dovere, della rinuncia per l'amore degli altri, per l'amore dei fratelli in umanità, che soffrono. Il Bodhisattva che ha vinto la battaglia, che tiene il premio nella mano e che pure dice nella sua divina compassione, per amore degli altri io cedo quest'alta ricompensa, compie la massima rinuncia. Egli è un salvatore del mondo. Punto ecco. La meta di felicità e il lungo sentiero di dolore sono a estrema distanza. Tu puoi scegliere l'uno o l'altro, o aspirante al dolore, per ricicli venturi. Pomba e rappa con accento circonflessonium. 86 vedi nota 67. 32, fr a m m e n t o 3, l s t t e p o r t e 33 le sette porte, a sciaria virgola 87 la scelta è fatta, io sono assettato di sapienza. Tu hai ora squarciato il velo posto innanzi al sentiero segreto ed insegnato il maggior y con accento circonflesson a.88 i 1 tuo servo è qui, pronto ad essere guidato da te. Bene, o s h r a con accento circonflesson v h.89 preparati, poiché dovrai progredire solo. Il maestro non può che indicarti la via. Il sentiero è uno per tutti, i mezzi per raggiungere la meta devono cambiare secondo i pellegrini. Che sceglierai, o tu dal cuore indomabile. Il samtà 90 della dottrina dell'occhio, il quadruplice di a con accento circonflesson a, oppure proseguirai la tua via per le 6 p a con accento circonflesso r a mit a con accento circonflesso virgola 91 nobili porte di virtù, che conducono a bodi e a praia con accento circonflesso, il settimo gradino della sapienza. L'arduo sentiero del quadruplice di a con accento circonflesso nasale tortuoso. Tre volte grande colui che raggiunge la vetta sublime. Alle vette delle p a con accento circonflesso r a mit a con accento circonflesso conduce un sentiero ancor più difficile. Tu dovrai aprirti il passo per sette porte, per sette fortezze tenute da potenze crudeli e astute, dalle passioni incarnate. 87 Asha con accento circonflesso r a è un precettore spirituale, un guru. I buddhisti del nord li scelgono generalmente tra i naljor, uomini santi, doti nel gotra bu con accento circonflesso e lunga n con tilde a con accento circonflesso na e nel lunga n con tilde a con accento circonflesso na ad arsana sciuddi, maestri della sapienza segreta. 88 y a con accento circonflesso na, o veicolo, così ma con accento circonflesso y a con accento circonflesso na, il grande veicolo, e in aia con accento circonflesso na, il veicolo minore, sono i nomi di due scuole di dottrina religiosa e filosofica del buddismo settentrionale. 89 S h r a con accento circonflesso vacca, uditore, o studioso che segue le istruzioni religiose, dalla radice shru. Quando dalla teoria egli passa alla pratica ascetica, diventa shramana, o attivo, dash r a ma, azione. Come dimostra lo ardi, i due appellativi corrispondono ai termini greci e. 90 Samtane è l'equivalente tibetano del sanscrito di a con accento circonflesso na, ossia lo stato di meditazione, di cui vi sono quattro gradi. 91 p a con accento circonflesso ra metà con accento circonflesso, le sei virtù trascendentali, carità, moralità, pazienza, energia, contemplazione e sapienza. Per i sacerdoti ve ne sono dieci, e cioè le sei precedenti più l'uso dei mezzi leciti, la dottrina, i voti sacri e la tenacia nel proposito. Etel, Chinese Buddhism. 34 Coraggio, o discepolo, rammenta la regola d'oro. Non appena avrai passato la porta dello srota con accento circonflesso patti, 92 di colui che è entrato nella corrente, non appena il tuo piede, in questa o in una futura vita, avrà premuto il letto della corrente nirvanica, non avrai più innanzi a te che sette rinascite, o tu dal volere adamantino. Guarda, che vedi davanti all'occhio tuo, o aspirante alla sapienza divina? Il manto delle tenebre ricopre gli abissi della materia, tra le sue pieghe io lotto. Esso si addensa sotto il mio sguardo, o Signore, esso si sperde sotto il gesto della tua mano. Un'ombra si muove, strisciando come le spire del serpente che si snoda. Essa cresce, si dilata e sparisce nell'oscurità. È l'ombra di te che sei fuori del sentiero, gettata sulle tenebre dei tuoi peccati. Sì, o Signore, io vedo il sentiero, il suo piede è nel fango, la sua sommità perduta nella gloriosa luce nirvanica, ed ora io vedo le porte, sempre più strette lungo la via aspra e spinosa che guida ai lunga n con tilde a con accento circonflessona. Ben vedi, o l'anu. Queste porte conducono l'aspirante attraverso le acque all'altra riva.93 Ognuna si apre con una chiave d'oro, e queste chiavi sono, 92 srota con accento circonflesso patti letteralmente significa colui che è entrato nella corrente che conduce all'oceano nirvanico. Questo nome indica il primo sentiero. I uno nome del secondo sentiero del sacri da con accento circonflesso gia con accento circonflesso min, ossia di colui che si reincarnerà, soltanto, una volta. Il terzo è chiamato ana con accento circonflesso gia con accento circonflesso min, colui che non si incarnerà più, a meno che non lo voglia per aiutare l'umanità. Il quarto sentiero è conosciuto con il nome di sentiero del rato arat, questo è il più elevato. L'arat vede il nirva con accento circonflessona durante la sua vita. Per lui non esiste stato dopo la morte, ma il sama con accento circonflesso di, durante il quale egli sperimenta tutta la beatitudine nirvanica. Quanto poco si possa contare sull'esattezza delle lezioni e delle interpretazioni degli orientalisti è dimostrato dal caso di tre pretese autorità, che presentano in questo modo i quattro nomi ora spiegati, lo spence ardi da, 1, sova con accento circonflesso n, 2, sa crada con accento circonflesso gia con accento circonflesso mi, 3, ana con accento circonflesso gia con accento circonflesso mi, 4, aria. Secondo il rev. Il lunga punto ed chi in sessi sono, 1, srota con accento circonflesso panna, 2, sagardagam, 3, ana con accento circonflesso gia con accento circonflesso nim, 4, aria. Lo shlagintveita a sua volta li trascrive in altro modo, e per di più ciascuno dà una spiegazione differente del significato dei termini. 93 L'arrivo all'altra sponda è per i buddhisti del nord sinonimo del conseguire il nirva con accento circonflesso na mediante la pratica delle 6 e delle 10 p a con accento circonflesso ramità con accento circonflesso. 35 1. di a con accento circonflesso na, la chiave di carità ed amore immortale. 2. shla, la chiave dell'armonia nella parola e nell'azione, la chiave che equilibra la causa e l'effetto, e non lascia più campo all'azione karmica. 3. ksh ha con accento circonflesso na, t, la dolce pazienza, che nulla può turbare. 4. ksh ha con accento circonflesso ghià, l'indifferenza al piacere e al dolore, la vittoria sull'illusione, la percezione della sola verità. 5. vrià, l'energia indomabile che si fa strada alla verità superna, fuori del fango delle menzogne terrestre. 6. di a con accento circonflesso na, la cui porta d'oro, una volta aperta, conduce il nalgior 94 verso il regno dell'eterno sat e la sua incessante contemplazione. 7. praina, la chiave di quella che fa dell'uomo un dio, creandolo bodhisattva, figlio dei di a con accento circonflesso ni. Tali sono le auree chiavi delle porte. Prima che tu possa avvicinarti all'ultima, o tessitore della tua libertà, devi conquistare lungo il faticoso sentiero queste pia con accento circonflesso ra metà con accento circonflesso di perfezione, le virtù trascendentali, 6 e 10 di numero. Poiché, o discepolo, prima che tu sia reso degno di incontrare faccia a faccia il tuo maestro, luce a luce, che ti è stato detto? Prima che tu possa avvicinarti alla prima porta dovrai imparare a separare il tuo corpo dalla tua mente, a dissipare l'ombra e a vivere nell'eterno. Per questo scopo dovrai vivere e respirare in tutto, come tutto ciò che percepisci respira in te, sentire te vivere in tutte le cose, e tutte le cose nel sé. Non permetterai che i tuoi sensi facciano della tua mente arena i loro giochi. Non separerai il tuo essere dall'essere né dal resto, ma fonderai l'oceano nella goccia, la goccia nell'oceano. Così sarai in perfetto accordo con tutto ciò che vive, amerai gli uomini come tuoi fratelli e con discepoli, alunni di un solo maestro, figli di una sola e dolce madre. 94 Uomo senza peccati, santo. 36 Molti sono i maestri, l'anima maestra è 1,95 Alaia, l'anima universale. Vivi in questa maestra come il suo raggio in te. Vivi nei tuoi compagni come essi vivono in lei. Prima di giungere alla soglia del sentiero, prima di passare la prima porta, devi fondere i due nell'uno e sacrificare il sé personale al sé impersonale, e così distruggere il sentiero tra i due, Antakarana.96 Devi essere pronto a rispondere a Dharma, la rigida legge, di cui la voce ti domanderà al tuo primo passo, ti sei conformato a tutte le regole, o tu dalle sublime speranze? Hai tu accordato il tuo cuore e la tua mente con la gran mente ed il gran cuore di tutto il genere umano? Poiché il cuore dell'uomo che vuole entrare nella corrente, deve vibrare in risposta ad ogni sospiro, ad ogni pensiero di tutto ciò che vive e respira, come la voce ruggente del fiume sacro rimanda l'eco di tutti i suoni della natura. 97 I discepoli possono essere paragonati alle corde della vinna con accento circonflesso melodiosa, l'umanità la sua cassa sonora, la mano che la carezza all'armonioso respiro della grande anima del mondo. La corda che al tocco del maestro non può rispondere in soave armonia con tutte le altre, si spezza ed è gettata. Così le menti collettive dei lanu e shra con accento circonflesso vacca. Esse devono accordarsi con la mente di a pa con accento circonflesso di a con accento circonflesso i a, una con l'anima trascendente, o spezzarsi. 95 L'anima maestra e alaia, l'anima universale o atma con accento circonflesso, della quale ogni uomo ha in sé un raggio con cui può identificarsi, in cui può immergersi. 96 Antakarana è il manas inferiore, il sentiero di comunicazione o di comunione tra la personalità e il manas superiore, o anima umana. Alla morte esso è distrutto come sentiero o mezzo di comunicazione, ed i suoi avanzi sopravvivono in forma di k con accento circonflesso ma r u con accento circonflesso pa, l'involucro. 97 I buddhisti del nord, e tutti i cinesi trovano nel profondo mugito di qualcuno dei grandi fiumi sacri la nota tonica della natura. Di qui il paragone. È noto alla scienza fisica, come pure all'occultismo, che l'insieme dei suoni della natura, quale si ode nel mugito dei grandi fiumi, nello stormire degli alberi nelle grandi foreste, nel frastuono di una città lontana, forma un solo suono definito e di tono perfettamente apprezzabile. Ciò è dimostrato da fisici e da musicisti. Così il professor Rice, Chinese Music, dimostra che i cinesi conoscevano questo fatto migliaia d'anni or sono, dicendo che le acque dello Hangol nel loro corso intonavano il kung, chiamato la gran nota nella musica cinese, e prova che questa nota corrisponde al fa, considerato dai fisici moderni come la tonica effettiva della natura. Il professor Silliman ne tratta nei suoi principles of physics, e dice che questa nota si dice essere il fa medio del pianoforte, che può quindi essere considerato come la tonica della natura. 37 Così fanno i fratelli dell'ombra, gli assassini delle proprie anime, la temuta genia dei dadduppa.98 E tu accordato il tuo essere con il grande dolore dell'umanità, o candidato alla luce? Lo facesti? Puoi entrare. Ma, prima di porre il piete sul desolato sentiero di dolore, è bene che tu conosca le insidie che si trovano sulla tua via. Punto munito della chiave di carità, di amore e di tenera compassione, tu sei sicuro davanti alla porta di dia con accento circonflessona, alla porta che sorge all'inizio del sentiero. Ecco, o pellegrino felice! La porta che ti sta innanzi è alta e larga, ed appare di facile accesso. La via che vi conduce è diritta, piana e verdeggiante. E come una radura soleggiata nelle oscure profondità della foresta, un angolo del paradiso di amità con accento circonflesso va riflesso in terra. I vigliusignoli della speranza e gli uccelli dalle piume radiose cantano nei verdi boschetti, cantano la vittoria ai pellegrini senza paura. Cantano le cinque virtù dei bodhisattva, la quintuplice fonte del potere di bodhi, e dei sette passi nella conoscenza. Passa. Poiché recchi la chiave, tu sei sicuro. Fino alla seconda porta la via verdeggia ancora, massale ripida e tortuosa alla cima rocciosa del monte. Grigie nebbie si avvolgono alla vecchia, taspra e sassosa, e tutto è tenebra al di là. Col procedere, il canto della speranza risuona sempre più debole nel cuore del pellegrino. Il brivido del dubbio è ora in lui, il suo passo si fa meno sicuro. Guardati da ciò, o candidato. Guardati dal timore che si stende, come le ali tacite e nere del notturno pipistrello, tra il chiarore lunare dell'anima tua e la grande meta, che appare indistinta nella remota lontananza. Il timore, o discepolo, uccide la volontà e paralizza ogni azione. Se il pellegrino è debole nella virtù, scila, inciamperà, e i ciottoli carmici feriranno i suoi piedi sul sassoso sentiero. 98 i Bon e i Dumpa, e le varie sette dei berretti rossi, sono considerati come espertissimi nella stregoneria. Essi abitano il Tibet occidentale, il piccolo Tibet e il Bhutan. Sono tutti tiaco con accento circonflesson trika. È ben ridicolo vedere come degli orientalisti i quali, hanno visitato le frontiere del Tibet, come lo Shlajintveit ed altri, confondano i riti e le pratiche disgustose di questa gente con le credenze religiose dei lama orientali, i berretti gialli, e di loro un Aljor, o Santi. 38 Abbi il piede sicuro, o candidato. Bagna la tua anima nell'essenza di KSH con accento circonflesson ti, poiché ora ti avvicini alla porta di questo nome, alla porta della fortezza e della pazienza. Non chiudere gli occhi, e non perdere di vista d'orge 99, i dardi di M A con accento circonflesso R colpiscono sempre l'uomo che non ha raggiunto vai R con accento circonflesso Gia.100 guardati dal tremare. Sotto il soffio della paura la chiave di KSH con accento circonflesson ti arrugginisce, e la chiave arrugginita si rifiuta di aprire. Più ti inoltrerai, e più i tuoi piedi incontreranno insidie. Il sentiero che conduce in alto è illuminato da una sola fiamma, dalla fiamma dell'audacia che arde nel cuore. Più osi, più otterrai. Più temi, più la luce impalliderà, ed essa sola può guidare. Poiché, come l'ultimo raggio di sole, che si indugia sulla cima di qualche alto monte, è seguito al suo spegnersi dalla nera notte, così quando la luce del cuore scomparirà, un'ombra profonda e minacciosa cadrà dal tuo cuore sul sentiero, ed il terrore radicherà i tuoi piedi al suolo. Guardati, o discepolo, da quest'ombra letale. Nessuna luce che irradi dallo spirito può dissipare l'oscurità dell'anima inferiore, se ogni pensiero egoistico non ne è fuggito, se il pellegrino non dice, io ho rinunziato a questa forma passeggera, io ho distrutto la causa, le ombre riflesse non possono più esistere come effetti. Poiché ormai ha avuto luogo l'ultima grande battaglia, la lotta finale fra il sé superiore e l'inferiore. Ecco, lo stesso campo di battaglia si è ora inabissato nella grande guerra, e non è più. Ma quando è oltrepassato la porta di KSH con accento circonflesson-ti, il terzo passo è fatto. Il corpo ti è schiavo. Accingiti ora alla quarta, alla porta delle tentazioni che insediano l'uomo interno. 99 d'orge è il sanskrit vaira, arma o strumento che sta tra le mani di alcune divinità, i drancetti tibetani, i deva che proteggono gli uomini, e lo si crede munito del potere occulto di respingere le cattive influenze purificando l'aria come lo zono dei chimici. Eppure è ne mudrà con accento circonflesso, atto e posizione usati nella meditazione. In breve, è un simbolo del potere sopra le cattive influenze invisibili, sia come posizione, sia come talismano. I bh o condiere si è nei d'umpa però, appropriandosi il simbolo, ne abusano a scopi di magia nera. Per i berretti gialli, oggi l'umpa, è un simbolo di potere, come la croce per i cristiani, e non è per nulla di più superstizioso di questa. Tribi h o condiere si è ne è, come il doppio triangolo rovesciato, l'emblema della stregoneria. Cento va in racco un accento circonflesso che ha il sentimento di assoluta indifferenza all'universo oggettivo, al piacere e al dolore. Il termine disgusto non ne prende pienamente il senso, ma vi ci avvicina, spassionatezza è forse l'equivalente che più vi si avvicina. 39 Prima di poterti avvicinare a questa meta, prima di alzare la mano per togliere il chiavistello della quarta porta, devi essere diventato padrone di tutti i cambiamenti mentali che sono in te, devi aver ucciso la legione delle sensazioni pensieri che, sottili ed insidiosi, si insinuano senza esser chiamate nel brillante santuario dell'anima. Se non vuoi essere ucciso da loro, devi rendere inoffensive le tue creazioni, figlie dei tuoi pensieri invisibili, impalpabili, che si affollano intorno al genere umano, progenie ed eredi dell'uomo e delle sue spoglie mortali. Devi studiare la vanità di ciò che par pieno, la pienezza di ciò che par vuoto. O impavido aspirante, guarda in fondo all'abisso del tuo cuore, e rispondi. Conosci i poteri del sé, o tu che percepisci le ombre esterne. Se non li conosci, sei perduto. Poiché sul quarto sentiero la più lieve brezza di passione o di desiderio farà oscillare la luce tranquilla sulle pure e candide pareti dell'anima. La minima onda di desiderio o di rimpianto per gli illusori doni di M A con accento circonflesso Y A con accento circonflesso, lungo Amta Karana, il sentiero che si stende tra il tuo spirito e il tuo sé, la via maestra delle sensazioni, delle rudi eccitatrici di Amca con accento circonflesso Ra 101, un pensiero anche rapido come il lampo ti farà perdere i tre premi, le ricompense che hai guadagnato. Poiché sappi che l'Eterno non conosce cambiamenti. Abbandona per sempre le otto funeste miserie, altrimenti non potrai certo giungere alla sapienza, né inviro alla liberazione, dice il Gran Signore, il Tata Rà con accento circonflesso Gata di perfezione, colui che ha camminato nelle orme dei suoi predecessori. 102 Rigida ed esigente è la virtù di Vaira con accento circonflesso Gia. Se vuoi dominarne la via, devi mantenere la mente e le percezioni molto meno intente che non per l'innanzia sopprime relazione. 101 Amca con accento circonflesso Ra, è il senso della propria personalità, il senso dell'Io sono. 102 Il vero significato del nome Tata con accento circonflesso Gata è, colui che cammina sulle orme dei suoi predecessori. 40 Devi saturarti di puro con accento circonflesso Laia, divenire uno con l'anima pensiero della natura. Unito con essa, sei invincibile, separatone, diventi l'arena di San Britti, 103 Origine di tutte le illusioni del mondo. Nulla è permanente nell'uomo, tranne la pura e limpida essenza di Alaia. L'uomo ne è il raggio cristallino, raggio di luce immacolata all'interno, materiale e forma di argilla alla superficie inferiore. Questo raggio è la guida della tua vita e il tuo vero sé, lo spettatore, il pensante silenzioso, la vittima del tuo sé inferiore. La tua anima non può essere ferita che attraverso il tuo corpo che erra, dirigili e dominali entrambi, e oltrepasserai felicemente la ormai vicina porta dell'equilibrio. Si di buon animo, o ardito pellegrino, all'altra riva. Non ascoltare i mormori delle legioni di Emma con accento circonflesso Ra, scaccia i tentatori, gli spiriti di cattiva natura, gli invidiosi lama in 104 dello spazio sconfinato. Si saldo. Ti avvicini ora alla porta mediana, alla soglia del dolore, con le sue decimila insidie domina i tuoi pensieri, o tu che combatti per la perfezione, se vuoi oltrepassare questo limitare. Domina l'anima tua, o tu che ricerchi le verità immortali, se vuoi raggiungere la meta. Concentra lo sguardo dell'anima tua sull'unica luce pura, sulla luce che è libera dalle impressioni e adopera la tua chiave d'oro. Punto la grave impresa è compiuta, la tua fatica sta per cessare. L'ampio abisso che spalancava le fauci per inghiottirti è quasi varcato. Punto ora hai attraversato la fossa che circonda la porta delle passioni umane. Hai vinto M.A. con accento circonflesso Ra e le sue schiere feroci. 103 sambritti è quella delle due verità che dimostra il carattere illusorio, la vacuità di tutte le cose. In questo caso è la verità relativa. La scuola M.A. con accento circonflesso Y.A. con accento circonflesso Na insegna la differenza tra queste due verità, para M.A. con accento circonflesso Orta Satya con accento circonflesso e sambritti Satya con accento circonflesso, Satya con accento circonflesso, verità. Questo è il punto controverso tra I.A. con accento circonflesso C.A. con accento circonflesso R.A., negando i primi ed affermando gli altri che ogni oggetto esista per una causa antecedente o per una concatenazione. I.A. sono i grandi nichilisti e negatori, per i quali tutto è paricalpita, illusione ed errore tanto nel mondo del pensiero e della soggettività, quanto nell'universo oggettivo. Gli yoga con accento circonflesso C.A. con accento circonflesso R.A. sono i grandi spiritualisti. Sambritti dunque, come verità soltanto relativa, è l'origine d'ogni illusione. 104 I.A. sono elementali e spiriti malvagi, avversi all'uomo e dai suoi nemici. 41 Hai rimosso le brutture dal tuo cuore e lo hai purgato da ogni desiderio impuro. Ma, o glorioso combattente, la tua opera non è ancora compiuta. Innalza, o l'anu, innalza ben alto il muro che ricingerà la santa isola, 105 Il riparo che proteggerà la tua mente dall'orgoglio e dalla soddisfazione al pensiero della grande impresa compiuta. Un senso d'orgoglio menomerebbe l'opera. Sì, costruisci forte perché l'impeto furioso delle onde pugnaci che sormontano e percuotono la spiaggia dal grande oceano dell'universale M.A. con accento circonflesso Y.A. con accento circonflesso potrebbe inghiottire il pellegrino e l'isola, anche quando la vittoria fosse compiuta. La tua isola è il cervo, i tuoi pensieri la muta che lo stanca e lo incalza nella sua corsa verso il fiume di vita. Guai al cervo che è raggiunto dai demoni latranti prima di pervenire alla valle del rifugio, il lunga N.A. con accento circonflesso N.A. con accento circonflesso Orga virgola 106 Sentiero della conoscenza pura. Prima che tu possa stabilirti nel lunga N.A. con accento circonflesso N.A. con accento circonflesso Orga e chiamarlo tuo, l'anima tua deve diventare come il frutto maturo del mango, tenera e dolce come la sua polpa dorata per i dolori altrui, dura come il suo nocciolo per i tuoi propri mali ed affanni, o conquistatore della gioia e del dolore. Tempra la tua anima contro le insedi del sé, meritale il nome di anima diamante. 107 Poiché, come il diamante profondamente sepolto nel cuore palpitante della terra non può mai riflettere le luci terrestri, così sono la tua mente e la tua anima, immerse in il lunga N.A. con tilde A. con accento circonflesso N.M.A. con accento circonflesso Orga, non devono riflettere nulla dell'ingannevole regno di M.A. con accento circonflesso Y.A. con accento circonflesso. Raggiunto questo stato, le porte che devi tuttora oltrepassare sul sentiero aprono i loro battenti per lasciarti il passo, e le più potenti forze della natura non valgono ad arrestare il tuo corso. Tu sarai signore del settemplice sentiero, ma non prima d'allora, o candidato a indicibili prove. Prima d'allora un'opera ben più aspra ti attende, tu devi sentirti tutto pensiero, eppure devi allontanare ogni pensiero dalla tua anima. 105 l'ego superiore o se pensante. 106 l'unga N.A. con accento circonflesso N.M.A. con accento circonflesso Orga è letteralmente il sentiero di I.Lunga N.A. con della conoscenza pura, di Parama con accento circonflesso Ortao, in sanscrito, Svasanvedana con accento circonflesso, la riflessione che conosce ed analizza se stessa. 107 Anima Diamante, Vaira Sattva, è un titolo del Buddha supremo del Signore di tutti i misteri, chiamato Vaira Dara e Adi Buddha. 42 Devi raggiungere quella fissità di mente in cui nessun vento, per quanto forte, può introdurre un pensiero terreno. Così purificato, il santuario deve essere vuoto d'ogni azione, suono, o luce terrena, e come la farfalla, presa dal gelo, cade estinta sulla soglia, così ogni pensiero terreno deve cadere morto davanti al tempio. Ecco, è scritto, prima che la fiamma d'oro possa ardere con luce stabile, la lampada deve essere ben riparata in un luogo difeso da ogni vento. 108 Esposta alla brezza agitatrice, la fiamma vacillerà e proietterà ombre ingannevoli, scure e mutevoli sul candido santuario dell'anima. E allora, o ricercatore della verità, la mente animatua diventerà come un elefante che infuria per la giungla, e, prendendo per nemici viventi gli alberi della foresta, perisce tentando di uccidere le immobili ombre che danzano sulla parete delle rocce solatie. Bada che all'anima tua per cura del sé non manchi il piede sul suolo della divina conoscenza. Bada che la tua anima, per oblio del sé non perda il dominio sulla trepida mente, e non vadano in tal guisa dispersi i giusti frutti delle sue conquiste. Guardati dal mutamento, poiché il mutamento è il tuo grande nemico. Questo mutamento ti aggredirà, ti respingerà fuori dal sentiero che segui, nel profondo delle viscide paludi del dubbio. Preparati, e si avvertito in tempo. Seppure hai tentato e fallito, o combattente indomabile, non perderti d'animo, combatti e ritorna all'assalto ancora e ancora. Il guerriero intrepido, quando il prezioso sangue della vita gli sgorga dalle ferite ampie e profonde, assale ancora il nemico, lo caccia dalle sue trincee, e lo vince prima di morire egli stesso. Agite dunque, o voi tutti che cadete e soffrite, agite come lui, e dalla rocca della vostra anima. Cacciate tutti i vostri nemici, ambizione, ira, odio e fin l'ombra del desiderio, quando anche siate sconfitti. 108 Bhagavad Gita con accento circonflesso, vi, 19. 43. Ricorda, o tu che lotti per la liberazione dell'uomo. 109 Che ogni sconfitta è un successo, e che ogni sincero sforzo col tempo ottiene la sua ricompensa. I sacri germi spuntano e crescono invisibili nell'anima del discepolo, e i loro steli si rafforzano ad ogni novella prova, piegano come giunchi, ma non si spezzano né mai possono inaridire. Ma, quando l'ora è suonata, fioriscono.110 punto ma se tu vieni preparato, non temere. Punto d'ora innanzi la tua via è chiara e diritta attraverso la porta di Viria, la quinta delle sette porte. Tu sei ora sulla via che conduce al porto di dia con accento circonflesso na, alla porta di Bodhi, alla sesta. La porta di dia con accento circonflesso na è come una coppa d'alabastro, bianca e trasparente, entro la quale arde tranquilla una fiamma d'oro, la fiamma di Praia con accento circonflesso che irradia d'atma con accento circonflesso. Tu sei questa coppa. Tu ti sei reso estraneo agli oggetti dei sensi, hai viaggiato sulla via della vista e su quella dell'udito, e stai nella luce della conoscenza. Tu hai ora raggiunto lo stato di Titiccia con accento circonflesso.111 Onaljor, tu sei salvo. Punto, 109 Questa è un'allusione ad una notissima credenza d'Oriente, e anche di Occidente si può dire, che ogni nuovo Buddha o Santo sia un soldato di più nell'esercito di coloro che combattono per la liberazione e per la salvezza dell'umanità. Nelle regioni del buddismo settentrionale, dove si insegna la dottrina dei nirma con accento circonflesso naka con accento circonflesso ya, ossia di quei bodhisattva che rinunciano al ben meritato nirva con accento circonflesso na o alla veste di dharmaka con accento circonflesso ya, che precluderebbero loro per sempre il mondo degli uomini, per assistere invisibilmente l'umanità e infine condurla al parà nirva con accento circonflesso na, ogni nuovo bodhisattva, o grande adepto iniziato, è chiamato liberatore dell'umanità. L'affermazione dello Shlajintveit nel suo buddismo in Tibet, che prulpa e ku, onirma con accento circonflesso naka con accento circonflesso ya, sia il corpo in cui i Buddha o bodhisattva si manifestano in terra per insegnare agli uomini, è totalmente inesatta e non spiega nulla. 110 Allusione alle passioni umane e dai peccati che sono distrutti durante le prove del noviziato, e servono come terra fertile, ove possono germogliare i sacri semi delle virtù trascendentali. Le virtù, i talenti o doni di natura preesistenti o innati si considerano come acquisiti in vite precedenti. Il genio è, senza eccezioni, un talento o d'attitudine portata da un'altra vita. 111 ttksha con accento circonflesso è il quinto stato del Raya Yoga, stato di suprema indifferenza, di sommissione, se necessaria, a ciò che si chiama piacere e dolore per tutti, ma senza che ne derivi piacere e dolore in breve, il diventare fisicamente, mentalmente e moralmente indifferente e insensibile sia al piacere, sia al dolore e quarantaquattro sappi, o vincitore dei peccati, che quando un sovani 112 ha attraversato il settimo sentiero, tutta la natura vibra di gioioso stupore e si sente sottomessa. L'argente a stella ora invia scintillando la notizia ai fiori della notte, il ruscello la mormora ai ciottoli, le cupe onde dell'oceano la muggiranno alle rocce battute dai marosi, le brezze o le zanti la canteranno alle valli, e i pini maestosi misteriosamente sussurreranno, un maestro è sorto, un maestro del giorno. 113 egli saderge ora come una candida colonna all'occidente, sulla cui superficie il sole nascente dell'eterno pensiero invia le più gloriose onde della sua prima luce. La mente di lui, simile ad un oceano calmo e sconfinato, si effonde nello spazio illimitato. Egli tiene vita e morte nella sua mano gagliarda. Sì, egli è potente. Il potere vivente liberato in lui, quel potere che è lui stesso, può sollevare il tabernacolo d'illusione molto al di sopra degli dèi, sopra i grandi brame indra. Ora egli otterrà senza dubbio la sua grande ricompensa. Non userà egli per il proprio riposo, per la propria beatitudine e i doni che essa conferisce, la meritata ricchezza e la gloria propria, egli, il vincitore della grande illusione. No, o candidato all'occulto sapere della natura. Tali doni e tali poteri non sono per chi vuole seguire le tracce del santo Tata con accento circonflesso gata. Vorresti tu in tal guisa arginare le acque nate sul Sumeru? 114 Vorresti tu deviare la corrente per amore di te stesso, o rimandarla alla sua sorgente lontana lungo le creste dei cieli. Se vuoi che questo fiume di conoscenza, di sapienza celeste, faticosamente acquistata, continui a scorrere dolcemente, non devi lasciarlo diventare una palude stagnante. 112 Sovani è chi pratica Sovan, il primo sentiero di Dià con accento circonflesso Nà, uno srota con accento circonflesso Patti. 113 In questo caso per. Giorno si intende un intero manvantara, periodo di durata incalcolabile 114 Il monte Meru, il monte sacro degli dèi. 45 Sappi che, se vuoi diventare cooperatore di amità con accento circonflesso Ba, l'età illimitata, devi diffondere la luce raccolta, come fanno i gemelli Bodhisattva 115 per la distesa dei tre mondi 116. Sappi che il fiume della conoscenza sovrumana e della divina sapienza che tu hai conseguito, deve da te stesso, canale di Alaia, essere riversato in un altro letto. Sappi, o Naljor, o tu del sentiero segreto, che le sue acque fresche pure devono essere usate per addolcire le amare onde dell'oceano, di quell'immenso mare di dolore formato dalle lacrime degli uomini. Ah! Tu devi diventare come la stella fissa nel più alto cielo, brillante orbe celeste, che splende dalle profondità dello spazio per tutti, tranne che per sé, che dà luce a tutti, non ne prende da nessuno. Ah! Tu devi diventare come la neve pura nelle valli alpine, fredda e insensibile al tatto, calda e protettrice per il seme che dorme nel profondo del suo seno, come quella neve che sopporta il gelo mordace e le raffiche del settentrione, proteggendo dal loro dente acuto e crudele la terra che racchiude i promessi raccolti, le messi che nutriranno coloro che hanno fame. Condannato volontariamente a vivere per i calpa futuri senza che gli uomini ti siano grati e si avvedano di te, pietra incastrata tra le innumerevoli che formano il muro di protezione.117 Tale è il tuo destino, se oltrepassi la settima porta. Edificato dalle mani di numerosi maestri di compassione, innalzato con le loro torture, cementato dal loro sangue, esso ripara l'umanità da quando l'uomo è uomo, proteggendola da nuove miserie, da più profondi dolori. 115 Nel simbolismo del buddismo settentrionale si dice che a mità con accento circonflesso ba, o spazio illimitato, parabramen, abbiamo il suo paradiso due bodhisattva, kvanshi yin e tashishi, i quali irradiano sempre luce sui tre mondi ove vissero, compreso il nostro, per aiutare con questa luce, di conoscenza, l'istruzione dei oggi, che a loro volta salveranno gli uomini. La loro eccelsa condizione nel regno di amità con accento circonflesso ba è dovuta alle opere di compassione compiute da loro quando erano gli oggi sulla terra, dice l'allegoria. 116 Questi tre mondi sono i tre piani dell'essere, il terrestre, l'astrale e lo spirituale. 117 Un o muro guardiano o di protezione. Si insegna che gli sforzi accumulati di lunghe generazioni di oggi, di santi e di adepti, e specialmente dei nirma con accento circonflesso naka con accento circonflesso ya, hanno creato, per così dire, un muro di protezione intorno all'umanità, che la ripara invisibilmente da mali ancor peggiori di quelli che la funestano. 46 E l'uomo non lo vede, non lo vedrà, né darà ascolto alla parola di sapienza. Poiché questo egli non sa. Ma tu lo hai udito, tu conosci tutto, o tu dall'anima ardente e pura. E devi scegliere. Ascolta dunque ancora. Sul sentiero di Sovan, osrota con accento circonflesso batti, tu sei al sicuro. Sì, una grande ricompensa ti aspetta immediatamente dopo questo m ha con accento circonflesso rga, sul quale il pellegrino affranto non incontra che tenebre, in cui le mani lacerate dalle spine stilano sangue e le selci dure ed acute tagliano i piedi, e in cui m ha con accento circonflesso ra u s ha le sue armi più forti. Calmo e impassibile il pellegrino segue la corrente che conduce al nirva con accento circonflesso na. Egli sa che più i suoi piedi sanguineranno, e meglio sarà egli stesso lavato. Egli ben sa che dopo sette brevi e rapide nascite il nirvana sarà con accento circonflesso suo. Tale è il sentiero di dia con accento circonflesso na, il porto dei oggi, la meta benetetta cui gli srota con accento circonflesso pati anelano. Così non è quando egli ha percorso e compiuto il sentiero di Arata. Qui Viclesha 118 è distrutto per sempre, e le radici di Taa con accento circonflesso 119 sono divelte. Ma aspetta, o discepolo! Ancora una parola. Puoi tu distruggere la divina compassione? La compassione non è un attributo, è la legge delle leggi l'armonia eterna, il sedia laia, sconfinata e senza universale, luce della giustizia sempiterna, congruenza di tutte le cose, legge d'amore eterno. Più ti fai uno con lei, immergendo il tuo essere nel suo, più la tua anima si unisce con ciò che è, e più diventerai compassione assoluta. Punto 120 tale è il sentiero a con accento circonflesso Ria, il sentiero dei Buddha di perfezione. Tuttavia, che intendono le sacre carte, le quali ti fanno dire, Aum. Io credo che non tutti gli Arat colgano il dolce frutto del sentiero nirvanico. Aum. Io credo che non tutti i Buddha 121 entrino nel nirva con accento circonflesso Na Dharma. 118 Clesha è l'amore del piacere, dei godimenti terreni, buoni o cattivi. 119 Ta con accento circonflesso è la volontà di vivere, che produce la rinascita. 120 Questa compassione non deve essere considerata come Dio, l'amore divino dei teisti. La compassione è qui una legge astratta, impersonale, la cui natura di assoluta armonia, è tratta in confusione dalla discordia, dalla sofferenza e dal peccato. 121 Nella terminologia buddista del nord tutti i grandi Arat, adepti e santi sono chiamati Buddha. Queste frasi sono tolte dal tegpa che empoido, ossia dal ma con accento circonflesso y a con accento circonflesso na su con accento circonflesso tra, invocazioni ai Buddha di compassione, i, 4. 47 sul sentiero a con accento circonflesso ria tu non sei più uno srota con accento circonflesso patti, tu sei un bodhisattva, 122 la corrente attraversata. Tu hai diritto, è vero, alla veste d'arma ca con accento circonflesso y a, ma il samboga ca con accento circonflesso y a è maggiore di un irva con accento circonflesso, e ancor maggiore è un irma con accento circonflesso naka con accento circonflesso y a il Buddha di compassione.123, 122 un bodhisattva è girarchicamente inferiore ad un Buddha perfetto. Nel parlare esoterico però si confondono spesso. Pure l'innata intuizione popolare ha collocato, grazie al sacrificio di sé, più alto nella sua venerazione un bodhisattva che non un Buddha. 123 questa stessa venerazione popolare chiama Buddha di compassione i bodhisattva che, raggiunto il grado di arat, compiuto cioè il quarto o settimo sentiero, rifiutano di passare nello stato nirvanico, ossia di indossare la veste di dharmaka con accento circonflesso y a e passare all'altra riva, perché non sarebbe allora più in loro potere di assistere l'umanità anche per quel poco che il karma permette. Essi preferiscono rimanere invisibili, in spirito, per così dire, nel mondo, e contribuire alla salvezza degli uomini spingendoli a seguire la buona legge, guidandoli sulla via della virtù. Fa parte del buddismo esoterico del Nord l'onorare tutti questi grandi come santi, ed anche il rivolger loro preghiere, come fanno i cattolici e gli ortodossi con i loro santi e protettori, ma la dottrina esoterica non incoraggia simili cose. Vi è una gran differenza tra i due insegnamenti. Il laico esoterico non conosce affatto il vero significato della parola nirma con accento circonflesso naka con accento circonflesso y a, da ciò la confusione e le spiegazioni inadeguate degli orientalisti. Lo Shlajintveita ad esempio, crede che nirma con accento circonflesso naka con accento circonflesso y a significhi la forma fisica assunta dai Buddha quando si incarnano sulla terra, il meno sublime dei loro ingombri terreni buddismi in Tibet, e passa a dare un'esposizione interamente falsa del soggetto. La verità invece è questa, i tre corpi, o forme, buddici sono chiamati, 1, nirma con accento circonflesso naka con accento circonflesso y a, 2, sambhogaka con accento circonflesso y a, 3, dharmaka con accento circonflesso y a. Il primo è la forma eterea che chi avesse la scienza di un adepto assumerebbe volendo lasciare il corpo fisico, e apparire nel corpo astrale. Il Bodhisattva sviluppa questa forma in se stesso col procedere nel sentiero. Raggiunta la meta e rifiutatone frutto, egli rimane sulla terra come adepto, e quando muore, invece di andare nel nirva con accento circonflesso naka, rimane in quel glorioso corpo che egli stesso si è intessuto, invisibile ai non iniziati, per vegliare su di loro e proteggerli. Il sambhogaka con accento circonflesso y a è la stessa cosa, ma con l'aggiunta di tre perfezioni, una delle quali è l'obliterazione totale di tutto ciò che è terreno. Il corpo dharmaka con accento circonflesso y a è quello di un Buddha perfetto, e cioè non corpo affatto, ma un soffio ideale, coscienza immersa nella coscienza universale, anima vuota di qualsiasi attributo. Divenuto dharmaka con accento circonflesso y a, un adepto o Buddha lascia ogni relazione o pensiero terreno. Così, per poter aiutare l'umanità, un adepto che ha ottenuto il diritto al nirva con accento circonflesso y a rinuncia al corpo dharmaka con accento circonflesso y a, come si dice in linguaggio mistico, conserva del sambhogaka con accento circonflesso y a soltanto la grande e totale conoscenza, e resta nel nirmana con accento circonflesso k con accento circonflesso y a. La scuola esoterica insegna che Gautama Buddha, con parecchi dei suoi arat, è uno di questi nirmana con accento circonflesso k con accento circonflesso y a, e che più alto di lui, per la sua grande rinuncia e per il suo sacrificio al genere umano, non se ne conosce alcuno. Quarantotto ora china la fronte e odi bene, o Bodhisattva, la compassione parla e dice, è possibile la beatitudine, quando tutto ciò che vive deve soffrire. Entrerai tu nella salvazione sentendo il grido del mondo intero. Ora inteso ciò che è stato detto. Tu raggiungerai il settimo stadio e attraverserai la porta della conoscenza finale, ma unicamente per sposare il dolore, se vuoi essere tata con accento circonflesso gata, seguire le orme del tuo predecessore, restare senza egoismo fino alla fine senza fine. Tu sei illuminato, scegli la tua via. . Guarda la luce suave che invade il cielo d'Oriente. Cielo e terra si uniscono per esaltarti. Ed un cantico d'amore sale dalle quadruplici potenze manifestate, dal fuoco che divampa e dall'acqua che scorre, dalla terra profumata e dal vento impetuoso. Ascolta. Dal profondo, insondabile vortice di questa luce aurea, in cui si immerge il vincitore, la voce senza parola di tutta la natura si innalza in mille accenti per proclamare, gioia a voi, o uomini di Mialba. 124. Un pellegrino è ritornato dall'altra sponda. Un nuovo Aran 125 è nato. Pace a tutti gli esseri 126. 124. Mialba è la nostra terra, dalla scuola esoterica giustamente chiamata inferno, e il massimo degli inferni. La dottrina esoterica non conosce altri inferni o luoghi di punizione, all'infuori dei pianeti, o terre recanti uomini. A Vidki è uno stato, non una località. 125 cioè, è nato un nuovo salvatore del genere umano, che guiderà gli uomini al Nirva con accento circonflesso na finale, dopo la fine del ciclo di vita. 126.126. Questa è una delle varianti della formula che non manca mai alla fine di ogni trattato, invocazione o distruzione, pace a tutti gli esseri, sia benedetto tutto ciò che vive, ecc. 49.